Ciao amici, come va? Spero tutto bene! Ciao, spero sia più malissimo! Solo questo! Ma Bertano, cos'hai tutta questa maglietta tutta storta? Io? Ehi, ma cos'hai? Sei un po' un pazzerello? Un boy! Vieni da un momento di fuoco, Riccardo Bertrand! Minchia che momento di fuoco, si vede, digestivo pure a sto momento di fuoco! Che ti sei mangiato per cena? Il po' che ero in modalità pigrizia, non avevo voglia Ci sta, ci sta, ci sta, va bene Va bene, valido Mi ha reso felice Sono le stesse cose che dico di te Ciao raga, come state? Spero tutto bene Oggi a Mongas mi ho andato con la gang del bosco Ho deciso di scrivere la gang del bosco perché qualcuno l'ha detto l'altro giorno Ho detto no, vabbè, noi, basta questo La gang del bosco Bertrand, mia madre mi ha appena ordinato una tua maglia da Vinted, ora sono felice Che maglietta hai messo su Vinted? Vediamo un po', vediamo un po' il tuo armadio su Vinted Vimisto, non è spellare perché devo... Come ti chiami? Bertrandello, perché qualcuno ha preso Bertra, mi dava molto fastidio No, non ci sono delle assolute hit sul mio Vinted perché devo svuotare l'armadio e non ho avuto la forza mentale C'è una camicia che non è mai stata piegata in tutta la sua vita, se vuoi però Cioè sta proprio male Bertrandello Sto soffrendo quella camicia Ma non ti trovo? Mi chiamo Bertrandello, te lo giuro E... dovrei trovare un profilo, come si fa a trovare i profili? Eh, quindi stai iniziando a chiedermi delle cose complicate, devo essere onesto, fratello Cioè, ma non è Vinted.it slash nome del profilo? Perché no? Giuro, vorrei dirti sì, no, ma non lo so, quindi... Sì, è proprio quello che devi fare Allora... Non ho studiato Vinted Bertrandello Vinted Bertrandello Vinted Non mi esce, fra... Ma soprattutto stai a tabella Mi mandi il tuo link! Non so, non... forse posso dal mobile Oddio, non sai neanche mandare i link E non posso vedere le storie di Instagram, posso cliccare i link delle storie di Instagram? Non da computer, vediamo Instagram No, ma non c'è più la storia, quindi la vedo grama Tota, te l'ho mandato su Instagram Perché me l'hai mandato su Instagram? Per quale motivo? Eh, su WhatsApp, su WhatsApp! Non so parlare, Tota, ok? Non so parlare! Palle! Ah, ma perché vedi? Slash member, slash stringa di numeri, trattino Bertrandello Che cazzo ha fatto questi link? Chiedi un po' troppo Madonna Bert, tra pure sta camicia, veramente non c'hai manco... Non c'ho manco provato No, no, te l'ho detto che non era stirata, minimamente È atroce, fra Niente il concetto dello stirare No, no, ma non ho mai legato Camicia mai usata per errori di taglia, ma usata ardentemente dal tuo armadio, fra Sì, è stata scattafottuta nell'armadio per ultimi due anni della sua vita Sto male Quella camicia mi è arrivata da Zalando, l'ho indossata e ho detto Ah, è piccola Ah, hai mentito quindi, eh? Qua c'è scritto mai usata Oh, madonna, la prossima volta ho messo un paio di calzini tutti pezzati, dico appena usati Ok, vediamo che altro abbiamo, ok, ok Wow, no, a poco, a poco, mazza di pantaloni a 15 euro, che sfigato Bertra Perché? Che sfigato, ma che ce va, fai sordi? Pantaloni in cotone tenuti perfettamente È vero, è vero Avrei da ridire, guarda Mezza volta E allora sono tenuti perfettamente Beh, allora anche la tua camicia che non hai mai usato è tenuta perfettamente Beh, oggettivamente, teoricamente, lo è Vabbè, però hai fatto, hai venduto il tuo primo merch, Bertra No, era lì in fondo, non lo toccavo da anni, l'ho messo a pochissimo Vabbè, ma per ricordo, 5 euro Minchia, 5, sono un fottuto Madonna, stavo per farmi bannare già così diretto Sì, sì, ma per 5, cioè, dai, un ricordo I ricordi non hanno prezzo, Riccardo Era per levare dal cazzo qualcosa dal mio armadio perché è pieno di merda Infatti, nei prossimi giorni, appena provo un giorno in cui decido mentalmente di essere libero Prendo, svuoto quel cazzo di armadio e metto fuori la peggio merda su Vinted Vabbè, ma te intanto non è che è un armadio norma, mo Eh, appunto, è pieno di schifo, però Eh, io invece ho veramente tantissima roba e dovrei veramente farmi Vinted È quello, esattamente quello che ho ragionato anch'io Sì No, ma io ho già i sacconi divisi Cioè, sono piena di roba Ma tu hai già i sacconi della roba da mettere via Sì, ma sono piena proprio, sono piena E ogni volta che viene qualcuno a casa mia faccio Senti le vuoi queste cose, eh A me non lo dici mai Falso Eh, infatti, cioè, nel senso, io letteralmente la maggior parte dei miei vestiti sono gli armadi dei miei amici, raga O colleghi, nel caso di Bertrand Non so, ogni tanto ti allarghi con queste cose Cos'era questo? Io vorrei un momento di... Sesso? No, 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 oh, oh Oddio, oddio, ho perso la mia playlist Ho perso la mia playlist del drog No, il drog Possiamo avere il momento drog, grazie Un momento drog in chat, ragazzi No, dove ne ho aprizzo il drog? No, tot Eccolo, ritrovato Allora, io ragazzi chiedo in chat un momento drog Mettendo una canzone valida per un momento drog Ok Momento drog Sì È never gonna give you up Momento drog, chat Io non lo sento il momento drog Spammate drog Sì, drog, ovunque No the rules and so do I For commitment that I'm thinking of You wouldn't get the spamming any other guy Ti faccio sentire cosa sto sentendo io Just wanna tell you how I'm feeling That I'll make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie And hurt you For so long Your heart's been aching but You're too shy to say it Inside we both know what's been going on We know the game and we're gonna play it And if you ask me how I'm feeling And if you ask me how I'm feeling Tell me you're too blind to see Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna run around and hurt you Tutti cantiamo Momento drog Spam fortissimo di drog per l'ultimo ritornello Never gonna say goodbye Never gonna run around and desert you Quanto ti stai agitando da uno a sì Give, give, up Never gonna give, never gonna give, give you up Ah sì, interessante Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you And desert you Never gonna take you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie And hurt you Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna turn a ride To hurt you Give you up E poi mi chianta cazzo a volte fa Let you down Never gonna run around and desert you Never gonna give you cry Non ti renderò mai un desert you Never gonna tell a lie And hurt you Wow ragazzi Veramente è un bellissimo momento di gaming Posso dire che per me è stato un po' strano Perché io sentivo tutt'altro Però lo attraverso Tu cosa sentivi? Ti faccio sentire cosa stavo sentendo? Te lo condivido su Discord È stato molto strano Vai sono pronta Condividimi Mi rende molto felice questa canzone Da quando Berta ha scoperto di poter ascoltare la musica durante live ragazzi l'abbiamo perso il tutto No sì sì è terribile Avete sbloccato un potere che non dovevate liberare Liberate il crac Liberate il crac Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Comunque sarebbe stato veramente un bel momento per avere un hype train Sì è vero E voi siete dei pirletti Dovremmo farlo comunque Dovremo scegliere un momento hype train Cosa fare quando parte l'hype train Cos'è il momento hype train? Com'è che lo gestisci? Tipo questo Quando parte l'hype train fai questa canzone Ah e c'è il drog E ti pre... è il momento drog hype train Il drog train Il drog train della durata di 3 minuti e 33 E te cantiamo tutto Never gonna give you up ogni volta che c'è l'hype train Sarebbe bello Se faceste partire l'hype train potreste vederlo In realtà l'hanno già visto Free Però l'hanno visto te cantare quindi Eh purtroppo Tu canti solo con l'hype train Tu canti solo con l'hype train Esatto Le tue corde vocali non si attivano Sennò va bene va bene Valido Qual è la canzone per Gustavo Legonadi? È vero Che canzone ti identifichi per Gustavo Legonadi? Maresciallo non ci prendi Ah Cazzo Stra Stra Maresciallo non ci prendi Pistole nella fendi Pistolo non ci prendi Pistolo non ci prendi Pistolo non ci prendi Bel bel momento Bel momento Bel momento Bel momento Bel momento Bel momento Ma soprattutto Bellissime palle Bravo Drog train No Drog train Allora sono indeciso Se abbonarmi Explainate i vantaggi L'ho tolto il fatto Che ci sta scritto sotto Però va bene Solo perché siete Guarda Leoxian Praticamente Il primo e unico Vero Bonus È che Siamo bellissime Tu ti prenderai un po' Della nostra bellezza Per Osmosi Ci sono i sub Dei per giocare insieme Una volta al mese Hai le bellissime Emote Tra cui Gustavo Legonadi Che secondo me È molto worth Avrai il Drog Avrai la sedia Avrai tutti i 45 Cazzo di Cosi che ha messo Bertra 45 cazzi Esatto Avrai ben Numero 45 cazzi Poi Avrai Anche l'accesso Il gruppo Telegrandi Sub Il gruppo Telegrandi Sub I canali speciali Di Discord Esatto Lo sconto sul Merch Lo sconto sul Merch Che deve Uscire il Merch Sì e cos'altro Cos'altro Le mie bellissime Palle Sei sicuro Di volerle Promettere A persone Che non conosci No 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 Assolutamente Posso avere accesso Alla felicità Tigre Tu no Esatto Ah poi Se sei sub Esatto Ma poi se sei sub C'è un'elevata Possibilità Che ti insulteremo Elevatissima Veramente Se hai un Fetish D'umilazione È tipo La cosa migliore Che tu possa fare È vero Noi insultiamo Sempre i nostri Saldi Insulato Però è Insulato No sono stupido Che cazzo vuoi Bertra Non so Qualcuno Te l'ha chiesto? Qualcuno Te l'ha chiesto? Qualcuno Te l'ha chiesto? No Nessuno Me l'ha chiesto Invece A me è stato Esplicitamente Richiesto Totta Può uscire Il bicipito Le chiappe Di Bertra Ok Hanno chiesto Questo No 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 Era un POV Le chiappe Di Bertra Capito? No Non c'è scritto POV Mi dispiace Presto tornerò Sub Attendo il mio Stipendio Bravissima Sara Mi raccomando Attende il tuo Stipendio Perché quando sei Sub C'è uno Stipendio Perché in caso No ragazzi Non è vero Falso Noi non stipendiamo I nostri sub E allora perché io sono sub Che spreco di tempo Madonna Seguire sti youtuber falliti Che cazzo stiamo facendo Stream Potete uscire i piedini Murium Scrivimi in privato su Instagram 150 euro Per le 3 In chiappe di Bertra Sì ragazzi Praticamente questo è il piano Non vi preoccupate Che c'è Totta? Totta Che succede? Per chi? Stai Che? Cos'era questo? Perché sei andata In coma? È stato un perito brutto Della mia vita Che cosa? No 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 niente 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 Buonasera buonasera ragazzi Totta cosa è successo? Me lo puoi raccontare? Non è successo niente Ma posso avere i cazzi miei Riccardo? No non puoi Perché questa è una relazione In cui ci siamo tutti e due Ok? No non puoi Ah Beh Ora te ne accorgi Che ci siamo in due In questa In questa In questa relazione Sì Ok E basta Non so cosa dirti Oggettivamente Cioè che ti sei in cula Stavamo dunque Dicendo Mamma e papà Non litigate Tranquillo Figliolo Mamma e papà Ti vorranno comunque Tanto bene Solo che non vivranno Più insieme Questo perché I grandi ogni tanto Litigano E non possono più Ruttare insieme Spero di aver risvegliato Qualche trauma Io quando Riccardo Bertrando Gustavo Legonadi Gucci Madonna Ma posso dire che a me Manca Andare su GTRP? Sì Madonna raga Abbiamo creato Un fottuto mostro Mi manca raga Che vi devo dire Madonna santa L'avete rotta È colpa vostro Oma Bertram 20 minuti di GTRP 25 minuti di GTRP Manco si apre Lo sai benissimo Wanna try it? No Dai Totta poi finiamo immischiati In quelle cose strane Vabbè salutiamo solo Sabrina E poi diciamo che Dobbiamo andare Lo sai benissimo Che non saluti solo Sabrina Ma guarda che falsa Sei come il tossico Che vuole la dose No ma poi diciamo Che andiamo fuori città Dai Chiediamo Alla chat Ah Sì Chiediamo Alla chat Chat Paul Paul GG Grazie Leoxian Oh ma l'abbiamo convinta Alla fine Leoxian L'abbiamo convinto Eh sì si è sabato Grazie mille Prato Ah ok Mi sto preoccupando Perché non posso partire Il TTS Leoxian 6 Si è subbato Grazie Ok ora gli insulti Fanculo Leoxian 6 Sei un coglione Totta No raga Che ridere Oggi uno pressatissimo Allora Mi racconto questa storia Vai raccontaci Essendo una donna Allora no 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 Nei DM Nei DM Essendo una donna Su Su Instagram Su social È drammatico È veramente drammatico E quindi Spesso capita Che la gente ti scrive Non ironicamente Esci le tette Dai Davvero Ma che ridere Ad esempio Ad esempio Oggi è successo Alle 16 e un quarto Suddetta persona Mi scrive Esci le tette Dai Non mi aveva mai scritto Prima È l'unico messaggio Che mi ha scritto Mood E io gli ho detto Hai 08 nel nick Non so neanche perché Ha il diritto di parlare E raga Lui si è pressatissimo E mi ha fatto Troppo rire Amore Non hai idea quanto Mi ha wall textato Ti ha wall textato Amore Mi ha scritto Amore Mi ha scritto Mi ha scritto Allora mi ha scritto Scusa eh Madonna Scherzo Di certo Non mi aspetto Che mi dici Oh tranquillo Nessun problema Ma calma E poi mi sembra Che ci sia un po' Di incoerenza Sul fatto che mi dici Di non avere il diritto Di parlare Il fatto che dicendo questo Credo tu abbia anche pensato Che hai intralciato I tuoi diritti O qualcosa del genere Poi Apri virgolette Non lo posso sapere Ciò che hai pensato Quindi se questo ragionamento Non ha senso Chiudi virgolette Me ne sbatte il cazzo Ma che cazzo vuol dire? Non lo so Non è neanche italiano Questa cosa È bellissimo Non è Oddio È troppo un copypasta Questo Cazzo è vero Mi manda il copypastone Copypasta Eh però Non l'ha messo purtroppo Tutti in un In un unico messaggio Però vi mando lo screen Vi mando lo screen So che qualcuno Lo farà al posto mio Ah ok È il culo pesante Scusa Non volevo Ecco di qui Non volevo assolutamente Mancare di rispetto Al trucco Se qualcuno riesce Anche a dare Delle Una cosa Scritta Cosa significa Questa cosa Magari sarebbe La traduzione? Sì perché io non riesco A capirlo sinceramente Secondo me è una di quelle cose Tipo le opere d'arte strane Devi solo No ma guarda che io ci ho pensato Ho detto E poi mi sembra Che ci sia un po' Di incoerenza Sul fatto che mi dici Di non avere il diritto Di parlare Ok Quindi allora L'incoerenza è tra due cose Ok quindi Il fatto che gli dico Di non avere il diritto Di parlare Primo elemento E secondo elemento Il fatto che Dicendo questo Credo tu abbia anche pensato Che hai intralciato I tuoi diritti O qualcosa del genere Cioè lui dice Dicendoti escimi le tette Non ti ho intralciato I tuoi diritti Cioè non ti ho Limitato Non ti ho obbligato A uscire le tette Sì anche Ma non ti ha neanche Dato fastidio Perché L'ha deciso lui Credo Oh tilde Cazzo sta interrompendo Il mio copypasta In sostanza trovo ingiusto Che lui non abbia diritto Di vedere le tue tette E allo stesso tempo Penso che tu non abbia Il diritto di non parlare No di dirgli Di non parlare Di dirgli di non parlare Sì scusate Sono molto stupido oggi Cioè sempre In realtà Non devo smettere di dire oggi Perché è una bugia A quanto pare C'è qualcuno Che comunque sta nel gruppo sub Ma non è in live E quindi ho detto Per la lore Venita nel gruppo Nella live Infatti Cazzo stando nel gruppo Senza venire in live Sti credi Noi 08 Facciamo proprio schifo Posso dire No cap Fottuti i feti Se ti scrivo Esci il tuo carino visino Me lo esci Ma di base È uscito Molteplici volte Cioè ma come le mie tette Tra l'altro Scherzo Puoi mandarmele Per favore Oddio sì ci sono altri sconti Di Amazon Oh porca troia Bellissimo Questo cucci sconto L'unica cosa valida Che ho trovato È stato un pacco Di 24 scatolette Di cibo per gatto Ottimo prezzo E invece scheda SD Da 256 giga Della Samsung Micro SD Micro SD A 20 euro Manda Manda 15 euro di sconto Me la mandi Subito tieni Perché oggi ne ho presa una Da 126 a 20 euro Però della Che fallito Ma non ho capito Tanto posso fare il reso Non è ancora partito No Bertra comunque Raga è troppo Bertra si fa troppo Solare con i soldi È assurdo Bertra Cos'è che è Fino a 130 No sto guardando La categoria Della Della roba Sì è VHS1 Vediamo che altri sconti Ci sono Vabbè Alex e varie Ah no Ma scherzo Quella a 126 L'ho pagata a 15 euro Sì comunque Non è worth Sì è meno worth di questa Onestamente Non è make you Understand Never gonna give C'è anche una bilancia in sconto Da 40 a 30 Se ti interessa No a posto Mario Rabbids Sparks of home Mario Rabbids Sparks of home Of hope È in sconto del 46% No a posto così Grazie Un robottino aspirapolvere A posto anche lui Un hard disk esterno Delle cuffie No no a posto Quella Star Wars Diorama Sala Del trono Dell'imperatore Set 2 Duelo spadelare Spadelaser Quarantesimo Anniversario Del ritorno Dello Jedi Dello Jedi No a posto così Anche quella Una smart presa Quanto la smart presa Vari mouse La smart presa È a 10 euro No passo Grazie Ok se no abbiamo anche Una soundbar In offerta di 55 euro 56 euro Bella Te la mando Della Bose Quindi buono Sì beh ma non comprare Roma soundbar Credo Cioè non è una di quelle cose Necessarie per il mio benessere Poi Allora guarderò Un cubo di Rubik A postissimo Grazie Un monitor 34 pollici Uno sconto del 21% A posto anche quello Un OnePlus 10T 5G Bella la soundbar Quattro lampadine Philips Hue Al sconto del 37% Scusa la soundbar Cazzo carino Ma come carino Hai detto che è atroce Eh no sarebbe carino Se non fosse brutto in culo Madonna è orribile È orribile ragazzi Atroce Ma perché l'hanno fatto così brutto Ma costa anche 40 euro Ma come è possibile Vabbè è un Lego È un Lego grazie al cazzo Quanto vuoi costi Sì ma è brutto in culo Un altro monitor in sconto Un altro No questo è un televisore in sconto Frigitrice ad aria Le cose importanti non sono in sconto Sandisk un terra Extreme SSD portatile In sconto dell'11% Bello 10 euro No no Ce l'ho il mio hard disk da mezzo terra Una sedia da gaming a 139 euro A posto grazie Ma ancora non l'hai montata l'altra Vabbè No si è montata Nella camera sbagliata Quando vorrai fare questa modifica? Quando avrò la forza psicologica Oh uno spazzolino eletterico In sconto del 50% Eh ce l'ho già Però mica questo costo 50 euro Me coglioni È pochissimo Mi spiace totta Ho riaperto la chat con te su whatsapp E ho visto di nuovo la tua cena Ogni cosa che dirai Dora in poi sarà Semplicemente condita da un Haha Però è carino questo Ha arrivato un gatto No vabbè Ti dice Ti mappa la bocca Ma io ti mappo la bocca E alla ricarica USB-C Oh raga spazzesca questa cosa Porca troia Lo voglio Lo voglio Lo necessito Ma mi piscio sotto Guarda questa recensione Riccardo Bertrand Hanno scritto Cioè la recensione di questo spazzolino Ok Uno ha scritto Ottimo lo spazzino cinesone Lo spazzino Lo spazzino cinesone Io personalmente uso Uno spazzino orale B Io 10 Perché avevo dei buoni Che dovevo spendere In una nota catena di elettronica Tra parentesi mi scadevano Ho invece regalato Questo Oclean X10 In versione rosa Alla mia compagna Perché vale meno di me In quanto donna E ho trovato Questa offerta Qua su Amazon Ebbene Nessuna differenza In meno rispetto allo spazzino Costosissimo Orale B Io dico Costa un sesto Questo Oclean Un sesto rispetto Al blasonato Io 10 serie La mia campagna è felice Si lava i dentini Spazzini Spazzini La mia campagna è felice Si lava i dentini Spazzini Spazzini E vissero tutti felici E contenti Dimenticavo Aspetta Dimenticavo Anche i ricambi Le teste Oclean Costano molto Ma molto bene E viva i cinesoni Consigliatissimo Un altro copypasta È la serata di copypasta Questo È la copypasta serata Questo Sì infatti Copypasta night Allora Vediamo Vediamo che altro ci dicono Questo qui No Questi già ce li ho Omino bianco Eh Questa era una gran bella Bombona Omino bianco Cos'è Il detersivo Eh sì Il detersivo per la lava Tre bottiglioni A sette euro Bono Eh sì Non lo mangi Eh no È terminata Ma T'attacchi al cazzo Fuck Io prima ho cercato Roba per la casa Non c'era un cazzo Infatti Sono molto Ah C'è suono Vabbè Io ieri sono rimasta Sveglia Fino all'una di notte Solo per vedere le offerte Wow Se vuoi Ancora in offerta Ci sono le pastiglie Per la lavastoviglie Eh Ah no Le stavo guardando Ma non mi ispiravano Così tanto Perché Sono sconti del 46% Passa Della feri Io non uso le pasticche Però so che sono buone E con pasticche Intendo MD Quelle sempre Poi ci sono 12 panni per auto In microfibra Scontati al 77% Non male Te lo mando I tappetini Per la piscia del gatto I cosa sono i tappetini Ah quelli Ma per i cuccioli Quello Vabbè Mi sembra che anche Il tuo spiscia in giro Sì ma non penso Che cambierai idea Con questi Cioè No però almeno Non ti spiscia dentro casa No ti spiscio io Dentro casa Perché tra la prossima volta Ok Ah guarda Se vuoi c'è Omino bianco In offerta Un po' Meno Conveniente Però lo stesso È sempre al 40% Di sconto Ah non è male 152 capsule Per 30 euro Grazie al cazzo Che non è male Bertra Oh eccola qua C'è scritto 60% Di sconto Beh sì Effettivamente Non è a male Madonna Questo invece È 32 per 6 pezzi 6 E sono 22 lavaggi Ciascuno Quanti 23 Allora sono un pochino Di più Bertra ma mi sa Oddio Bertra No tu ora mi devi dire Per cosa stai facendo Tutte queste cose Perché Sono per la lavastoviglie Eh per le lavastoviglie Ma io non ce l'ho Pensavo fossero Della lavatrice No Lavastoviglie Amor Sono così triste Tutto mi hai distrutto Sappio Amor Dai però c'è l'omino bianco Per la lavatrice È vero Mi ha fatto molto Ridere Detersivo igienizzante Ma Ah però la roba che mi hai mandato tu A 1399 Non c'è Cioè a me non è 1399 È finita allora È a 32 zio Perone È finita È ripero Alla che bro Io ballo Ho fatto un ruttino Scusatemi Ma quindi GTRP È ormai Ah ma minchia Ma era stato fatto il sondaggio Non l'avevo visto Raga scusatemi Vabbè manco Bertola Io l'avevo visto Però Bertola non me l'ha fatta apposta Sì Madonna Bertola Che merda che sei Sei Sai cosa sei Una cattiva persona Perché non mi fai giocare A GTRP Guarda A me sembri una persona adulta E puoi farlo da solo Da sola Da solo Oppure puoi darmi Un grosso bacio Un limone durissimo Ok ritiro tutto Non darmi mai più Un limone durissimo Ti prego Comunque aveva vinto GTA Quindi complimenti Ti dimostri un grande egoista Che non fa il bene Del pubblico Del popolo Sai cosa faccio Complimenti Che la democrazia finisca Da Riccardo Su Riccardo Bertrando Su Prendetevi una stanza No raga Noi preferiamo farlo in G Vabbè Bertola Cosa hai fatto oggi di bello Cosa ho fatto oggi di bello Pulito tutta casa Proprio tutta Mi è venuto questo Chiribizzo Di solito la faccio domenica Oggi mi è venuto Così È stato divertente E niente Ho fatto quello Sono allenato Ho registrato per Bertola Reaction Basta Ci sta È stato abbastanza Tra come giornata Poi ho quasi finito Il mio L'odio che provo Nei confronti Della mia Che cazzo stai ridendo Ma porca troia Ma posso ridere No no Mi dispiace Non è un lavoro Di gruppo questo Non posso neanche ridere Ora Ah mi stai Mi stai mettendo La musica sotto È proprio la merda Non hai idea Quante volte l'ho fatto Da quanto tempo L'ho fatto Berta Ok Va bene Va bene Adesso non parlo più Come on Come on Come on Come on Grazie 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 Arti Grazie Basta Bertola Dammi un bacio Grazie Oh ma sono fighe Le mie cuffie Cazzo Sì sì Sono molto carine Mi piace troppo La banda colorata Merlin The Mage Merlino Il Maggio Domanda Cosa dite Conviene cambiare Da soli Il disco rigido Se lo sai fare Sì Io al momento Ho il disco rigido All'esterno Del mio computer Da circa un mese Ah Forse sarebbe Cioè Così è Se te la sei Ma Bertra Sai cosa dovremmo fare Settimana prossima Cosa Cioè non so se è un'idea di merda Però secondo me potrebbe essere carina Facciamo una live Solo GTA Ok E facciamo sia GTRP Ma che le gare di GTA Cioè vorrei fare le gare di GTA in live Carino Cioè perché io non vedo mai nessuno Fare le gare di GTA in live Grazie È la ride Aspetta Ma non avevamo messo l'alert per il ride È vero La Grazie mille Samuel The Freak Per il ride Comunque grazie mille Però questa cosa Anche con i sub Effettivamente potrebbe anche essere aperta i sub Cosa c'è una futta Dici Una roba così matta Ma c'è una futta Nel senso Ah no è vero Non ce l'abbiamo Aspetta Vediamo se lo posso mettere Sound alert Make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around And destroy you Eccolo ma non era attivato Per qualche motivo Niente Porca troia Eh no Ora ho bisogno che qualcuno rifaccia un ride raga Fate un ride Tanto parte anche con tipo Se è un ride di uno spettatore È vero Fatelo al volo raga Per favore Fate un ride Dove Fanno cazzo di ride Forse non avessi capito C'è in questo momento Voi siete Tutta è diventata Tutta è diventata Tutta è diventata Ora ne fanno 800 Amo Allora Alberto A parte stai laggando Come la merda Oh mio dio Sto laggando di brutto Ti sta facendo veramente male la testa Vuoi un occhi? Sì grazie Porca troia Se stai laggando Fra No però volevo dirti Che oggi Uno di quelli di Mare Fuori Si è dichiarato omofobo No che ridere Ti giuro Ha messo questo Questo posto Con questo versetto Della Bibbia Praticamente Dove Ma che hit Che assuma Artem Instagram Artem Coming out Omofobia Ah no si è messo privato Ora ovviamente Ah dopo il profondo Backlash Eh ovviamente avrà avuto Una fortissima shitstorm Eh ti dirò Vediamo se ora vedo Se cerco l'hashtag Artem Magari mi esce No forse Orca troia Grazie G.A.D. Per il ride Con una persona Grazie mille Ho fatto ha ha Vediamo se cerco Hashtag Mare Fuori Se mi esce No non voglio Top post Voglio tutti i post Eh no Non mi esce Magari Web Oh minchia Web O palese Ho fatto un articolo Sopra Per forza Web Web Ma I Adesso sarà così Napoli core Certo che puoi dirlo Ora lo tolgo Ora lo tolgo Vero Napoli core Eh no Di qua non l'hanno messo La 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 Ciao E' entrata un sacco di gente Ciao Ciao nuovo Ma non mi avverti neanche Così Senza preavviso Manco mi inviti a cena Manco mi chiede Nulla così Con cattiveria Sei una femmina Ma Cioè Senza neanche così Va bene Boh va bene Riccardo Bertrando Fai come preferisci Fai come meglio credi Riccardo Bertrando Oggi ho cotto Un polletto allo spiedo Un polletto allo spiedo Quattro ore di cottura L'ho tolto e è caduto Nella braccia Madonna Vero momento Nuova Un vero momento Rana Grazie Margo Snoia Bacini Ciao ragazzi Come state stasera Grazie Margo Snoia Si sono mutati tutti Dopo che ho fatto questa domanda Tutti 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 Nessun tipo di voglia Di rispondermi E io Assoluto Lo accetto Mi odiano Mi odiano Completamente Ma a me va bene A me va bene Ma senti Bertro Io ho una domanda da farti Ma perché le altre mod Non Cioè perché abbiamo scelto Towns of people Towns of us Towns of us Non lo so Cioè oggettivamente Non ne ho la più pallida idea Interessanti Interessanti informazioni Mi sto dando delle informazioni Veramente interessanti Io glielo devo dire Veramente Che schifo non farlo mai Sai cosa io faccio Schifo Schifo Assoluta muddata Oh si totta Fallo ancora Queste le parole Di una parola Berta tu stai Ti sta facendo Un male la testa Che direi che è quasi Emigrania Fra Controlla che non hai In download qualcosa Comunque Niente No no Già controllato Hai controllato Di essere bellissimo È un aggiornamento L'avete fatto Di cosa? Della mod L'aggiornamento Della mod È un pena Issa Appena scritto rage No Sì l'avevo fatto Perché sono Fottutamente pazza Io no Chi Ah no Sì l'avevo fatto Anche Tanto saranno Tipo 3 mega Fra No no L'avevo fatto Sì è la cosa Più lenta Del mondo Io te lo dico Sì io Sto al 6% Da 5 Dai Bromma Sto anch'io Al 22 Ma come fanno Bromma Allora forse Mi sta salendo Il dubbio Di non averlo fatto No L'ha fatto Velocemente Mi sembra Che si è buggato L'ho Copio È perché A me ci ha messo Pochissimo Io quando Io quando Quando reggio Allora godo Vabbè Lo cancello E lo rifaccio Oh no Vabbè Tanto si sta Al 6% Non è che perdi tanto Rajesh 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 Cosa stai facendo Bert Cosa è questa È una canzone Che canzone È una canzone Di Rajesh Non l'hai mai cantata Tu la canzone Di Rajesh Non l'ho mai sentita Se devo essere onesta Riccardo Madonna Veramente maleducata Non ho mai sentito La canzone di Rajesh Mi dispiace Tutta invidia La tua Il tuo odio Mi scivola addosso Inutile che stai lì A rosicare Solo perché Ho fatto una canzone E tu no Ah ma è tua La canzone Penso fosse solo su di te Pensavo avesse fatto Tipo Snitex Su di te No 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 Lo ho saputo Eh mi dispiace Mi dispiace Mi passi il tuo nome Da su Soundcloud Così la streamo E la condivido E fra di zona Per supportare Gli nuovi artisti emergenti Guarda È incredibile Più La gente che deve entrare In queste lobby Va sempre più in basso Nelle stanze possibile Tipo che Noia era A Valorant 1 Dio santo Ma perché lei In realtà stava giocando A Valorant Cioè che cazzo vuoi Lasciala giocare a Valorant Devo cercarla con l'umino No ma sti Ma io scelgo sempre Valorant Per questo motivo Sono una pro player Che Noia è troppo forte A Valorant A Valorant A Valorant A Valorant Eh sì perché ho detto Che Noia Quindi volevo dire Valorant Che Noia Dai Ma io vi dico solo Che è la cosa più lenta Del mondo Scaricare Non trovo la cosa Ma sono sempre stavolite mod Sì 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 Non lo trovo più Quindi apri il mod manager È molto lento 95% Oh 50 Ha fatto lo skip A corso Time skip The boys running Sì dal 20% Poi fa Boh Running in the 90's Vabbè io lo lascio fare Intanto A prendere Da mangiare Brava Totta Fai Fai bullismo Su Ciurli Hai fatto benissimo Ho capito Come cazzo Si permette Di arrivare in ritardo Io ora sono impegnata In questo momento Totta sta bullizzando Ciurli Sì Totta deve bullizzare Ciurli Purtroppo Ragazzi miei Ah ma io ho messo Discord Davanti alla chat Quindi non leggo Karauchetti No Cioè Marghez Oggettivamente Che maleducata che sei Non è ancora pronto Non si mangia Per favore non biangere E non ci rimanere male E non ci rimanere male Hanno a Bertra Basson Questi meme morti Ma è appena nato Poraccio Sì durerà altri tre giorni Dagli questi tre giorni No secondo me è già morto Questo meme I meme ormai durano Una settimana Eh ma Sento sono quelli su TikTok Che vengono violati Violentemente E poi muoiono Sì no Ma è giusto Cioè io accetto Che muoia Anche vorrei essere Viola Noi Perché stai facendo Il conto giù Tot Il conto giù Perché Charlie ha detto 60 secondi 20 19 Oh zanzaro di merda Un po' di roba Comunque posso fare uno shout out A 30 gradi ad ottobre Un applauso perché Ma non sono 30 Perché devi mentire Oggi erano 30 Fa molto freddo Ma non c'è Ma Charlie c'è di essere dentro Ma non è vero Fa molto freddo Ma sì che c'è Lì C'è stanze vocali E dov'è Quanti in basso Ah eccola qua Guarda proprio allo scadere Dell'ultimo millisecondo Baby Puttana Eva Che cazzo di colpo Siete impazziti Sto giocando tipo a cyberpunk Ero in mega stealth Contro tipo Un posto pieno di gorilla Che cos'è questa cosa Ma perché mi chiamo Giurgi Questa cosa Perché il tuo nome è qua Purtroppo Perché insulti gorilla Che c'entra E comunque Bertra stai laggando un botto E vabbè la vita Non posso farci un cazzo A quanto pare Comunque tu non sai Chi è il decimo ospite Di stasera Chi è Oh no Indovina Salvo la partita e arrivo È una persona con cui Abbiamo già portato a Mogus Sì Una persona con cui è litigato È una persona Se è una persona con cui è litigato Allora neanche Bertra la inviterebbe È una persona Che abbiamo ospite questa settimana No Hai i baffi Non hai i baffi Il cappello Si identifica In un genere È appartenente Alla divisione binaria Sì È un uomo No È una femmina No Beh Se non è un uomo Cosa deve essere Scusa Ovviamente Se non è uomo Solo una femmina Pensa che ci sia Una via di mezzo Io mi dissocio Nel dubbio Da questa cosa È uomo È donna Non è uomo È femmina È femmina e maschio Così c'è scritto Sui bagni Della mia scuola media È vero Ok femmina È una femmina È una femmina Questa femmina È di Roma Di Roma No È di Milano No Ce ne sono due città No Aspetta È Svizzera Erro Sì Non è vero Non è vero Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No è Michelle Michelle è giusto Michelle è giusto Ma non è Hunziker È Michelle Puttini No vabbè Michelone Ma non ci credo Non ci credo Finché non la vedo Michelone Sì Però mi ha appena scritto Mi ha appena scritto Quando è due Ma hai sbagliato in inizio di nuovo? Punto Madonna No Grazie Ci sono due gender Milano e Roma I famosi due gender Il gender Milano e Roma Ciao persone belle Come state? Ecco Converro Ti amo Michele Michele Quindi in questo momento Io essendo di Roma Ma trasferita a Milano Appartengo a entrambi i gender Sì Sì Benvenuto nel club No ma non sei tipo fluida Perché puoi passare da un È vero È vero È vero Perché fino a ottobre andrò a Roma E quindi sarò fluida L'ho vista piuttosto solida In realtà la totta Ma insomma Ma perché non mi hai visto Sulla sala da ballo Sono estremamente fluida On the dance floor No No facciamo a Magus moddato Che palle Perché Perché sburro sbronzo Ma no Ma non palle Perché tipo Sia brutto Ma perché non ci so giocare Sono scarso Sburro Sburro Scusate Sono una scemmia Non ti preoccupare Stasera Stasera ti difendo io Porca troia Berro Dimmi Berro Eh Se siamo Se non siamo bravi ad una cosa Vuol dire che c'è tanto margine di miglioramento Quindi in prospettiva del futuro È una cosa positiva Ah dici già Se sei scarso Non puoi far altro che migliorare Tipo Esatto Puoi solo risalire dopo che hai toccato il fondo In fondo non puoi fare altro che salire Grazie Tott È vero Questa cosa in qualche modo Mi dà una retrospettiva positiva Grazie Ti voglio bene Sono felice di ciò Sono felice di ciò Allora Quindi ragazzi Ti ricordo Che una volta che avete appuditato Dentro al Appena l'ha aprito Devete fare di nuovo update Il tasto arancione che vedete Sì Aprite il coso delle mod Entrate Venite Copiosamente La stanza è il nome di Nova su Discord Ancora Ah bellissimo Questa cosa comunque Veramente bellissima Ma Io non mi viene che devo updateare niente Devo updateare Che versione siamo Rega per sicurezza In alto Ah è vero Me lo farei installare 5.01 Sì ma ci mette poco No Io so 5.02 C È quello che adesso ho Di Anche io ho Non hai fatto Dentro la hobby Ah beh È piccoletto adesso L'ho visto adesso Eh l'ho visto Dentro il game Dov'è? Dove lo vedete? Nella schermata iniziale Eh quello già l'ho fatto Non mi ha risposto le mod 5.01 No È già aperto in basso a destra Allora A 6.0 Come faccio ad arrivare alla nostra Ma io l'ho fatto Adesso però sono ancora in 5.1 Ok non mi piace Devi chiudere e riaprire Ah ok No Hai aspettato di Cliccare i cassero Devi fare conferma Non mi ha Ah è vero Devi fare C'è il conferma Che ti beta Non devi cliccarlo Ah Tauro vero Installato su Cessuto Devi aspettare un attimo E poi dice Premi conferma E restart Ah io sono 5.0.2 Ok tu sei giusta Ah ok E sei anche fluida Sì Ah in che senso 5.0.2 Eh sì c'è un pusantino scostino giallo Appena apri il gioco c'è un piccolo tastino Nella schermata iniziale Ecco lì Aspetta che ti dica premi conferma Spiegatemi come devo E devo riavviare Devo riavviare Devo riavviare la mano Allora allora aspetta Michele Ragazzi Allora Non li tigliamo No non fatemi arrabbiare Non ti arrabbiare Noi ti vogliamo bene Allora Ok Hai aperto il gioco? No Allora apri il mod manager Quello lì che ti ho fatto installare Ok aperto aperto Fai Clicca sulla piccola Iconcina di start Di Town of Asser Ok Aspetta E ti si apre Amogus Devi avere anche stima aperto Giustamente Aspetta Quanto è alto il volume di Amogus? Stima aperto Ti si è aperto? Dov'è che trovo Quella roba lì che hai detto Sur Allora Se ti si Ok ci sono Esatto c'è un piccolo cazzillo Ti si è aperto il gioco? Per iniziare la partita Ragazzi ma c'è un problema Potresti dire a Nova Che è bellissimo per favore Nova Dicono che sei bellissimo Dalla mia chat Gli hai detto al tizio Che ha scritto il commento in chat Che dovrebbe iniziare a fare una visita Magari è una tizia Magari è fluido Magari è di Roma e Milano C'è un grosso problema però Che sono un giga problema E in 5.0.2 Non puoi più caricare i settaggi Non ci sono più i settaggi E quindi Li fai a mano Li fai a mano Tranquillo Tanto io sto al 22% Con calma No 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 Proprio non ci sono più È il default game Non ci sono più i personaggi custom E che cazzo di mod è C'è personaggi custom Eh toccherà fare senza Raga Tanto a meno si apre Il mod manager Non si apre Fate un test Siete aggiornati Io sono aggiornato Sì ma a me non fa entrare Quante mod avete caricato Io non ho due 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 È quello il problema Il problema è che non puoi mancare Entrare da te Perché in quelle due mod Ci sarà qualcosa da fare Eh no In quelle due mod Non c'è nulla Fammi vedere Madre di Dio Va bene Io intanto rubo Charlie Per fargli funzionare le cose Tu mi stai dicendo Che bastava semplicemente Non aggiornare Sì Ciao Ciurli Sei piccola Allora Allora Condividimi lo schermo Condividimi il tuo bellissimo schermo Come cazzo si fa Aspetta Allora Sotto c'è una cosa che è Turn on camera Condividi schermo Sì sì Esatto Esatto Così Lo vedi? No Ottimo Devi cliccare Share your screen Condividi lo schermo Eh lo sto facendo Ma non va Dopo Dopo aver Ok aspetta 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 Diventerai momentaneamente Il terzo amichetto Ok rifallo Schermi Schermo uno Go live Ok perfetto Allora Vai in basso a destra Dove c'è quello Il triangolino Eh non lo trovo Ci ho provato Ok allora Fai tasto destro Sulla barra No sulla barra Sì là Vai su gestione attività Esatto E qui chiudi Clicca su mod manager E termina attività Clicca Clicca nessuno qualsiasi E termina attività Ok Perché sono aperti Tutti questi mod manager Ah ma l'ha mandato in palla Se ne clicchi uno Poi tieni premuto shift E clicchi l'ultimo Te li chiude tutti insieme A quanto pare no Vai Termina attività Ti chiudo tutti Sì termina attività Sì 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 Termina attività Ma quanta roba c'è in background Porco Dio Grazie Oh Charlie Moo Charlie Moo Non si chiamano queste cose Ho detto lo porto io Ah ok 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 Credo in padre Pio Ok Ora chiudi il gestore Delle attività E ora apri steam È già aperto Ok perfetto Allora apri il mod manager Ma non si sta vedendo Il mio schermo No 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 Non si sta vedendo in live Ok Ok perché ho tipo Un sacco di roba No ma non è quello Che devi aprire Non è quello Come no E qual è Ho sempre aperto questo Eh no non è quello Mod manager E basta Guarda cerca lì Mod manager E basta Mod manager Ecco questo devi aprire Ma io ho sempre Poi vai su mods in alto Ok towns of us Vedi declicca quella roba lì Dell'aggiornamento Ok Ok io ora ti si sta installando Possiamo tornare su Perfetto Perfetto Rieccoci ragazzi Totta IT Ha funzionato E ora Charlie funziona Se qualcuno ha dei problemi Verrà spostato in una stanza Sotto con me E spiego Eh mamma Tutta un'altra cosa Quindi E come game version Cosa mettiamo Io ho provato a mettere Io ho lasciato l'ultima Ok Mi passato Telegram Dove l'hai passata la roba La 501 Adesso lo passo direttamente Lo zip a tutti Ma rega Ma Che succede? Forse c'è una soluzione Più semplice Allora Questa mi sembra la più semplice Fattibile da fare No 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 Facciamo così Facciamo così Facciamo così Voilà Allora Ho mandato La più semplice Potete spiegare anche Nei comuni mortali Come funziona Allora andate su Aspetta un attimo Che riesco a capire Se work o no Ok va bene Va bene Senza problemi Poi c'è anche l'alternativa Di Nova Che è più semplice Io non devo cambiare niente È vero a me funziona tutto per ora Eccoci qua So happy together Madonna stavo per esplodere Scusate Eh Com'è che fai però Non è che lo metti poi scusa? Eh Te lo spiego io che sono fluido Fatelo selezioni E fai più Eh Io però ho fatto questa cosa E sta Provando a startare Oh ce l'ha fatta a startare a manga Scusate Anche me l'ha startata Più lenta del mondo Eh perché il primo più è sempre più lento Per favore Eh Se vai su Monds A1VR Ho mandato Dopo dove cazzo vai Spera l'ho mandato su Spera l'ho mandato su un gruppo Ditemi chi è che non c'è nel gruppo Che gli mando L'ho mandato a Michele L'ho mandato a Davide L'ho mandato su Discord Che sennò devo fare l'accesso su Whatsapp web Madonna siete tutti Ce l'hai il telegrama aperta? Io sì ce l'ho No dico lì C'è il carri Lo mandavo lì Sì te lo mando lì Ma te lo mando qua su Discord Bellissimo zip Cosa cazzo devo fare? Quello devo fare un downgrade Tipo Sì Devo fare qualcosa anch'io con lo zip Scusatemi Un attimo dissociato Sì tutti quanti Sì E non posso mandartelo Rage qua su Discord Su Discord non si può È troppo grande Perché Serve il niente Te l'ho mandato Raga Funziona Funziona Ok ragazzi Allora ve lo spiego subito Aspetta un attimo Facciamolo scaricare a tutti Così poi lo fai una volta Ok ditemi quando tutti l'avete scaricato Non lo trovi nel gruppo di Whatsapp Eh lo so ma non posso accedere da Whatsapp da questo computer Perché io l'ho caricato così e non mi work Non posso muovere il personaggio Eh neanch'io posso muovere il personaggio Lei mi hai mandato Mi sa che facciamo vanilla Prova a fare la partita Non ti facciamo vanilla Eh magari stasera facciamo vanilla Ah come mi dispiace cazzo Almeno mi dispiace da vedere In realtà è stato tutto un grande piano di Eh esatto Di sburro fronzo Di sburro fronzo Che ha proprio boicottato Il fatto che non sapete fare Un upgrade E vabbè facciamolo Il grande bello Bello fronzo Soprannominato che Anche bello stronzo Ok ma basta che cambia in Europe Senza chiudere il gioco In realtà è stato Probabilmente cyberpunk Che mi ha dato della vita Da hacker Che conviene comunque Chiudere e aprire Con il gioco normale Cazzo Oh figlio non vedevo l'ora Di giocare con le mod Sono tristissima Io vi giuro È casuale sta cosa Si gioca normale In che senso è casuale No vi giuro Non posso condividere lo schermo Cosa cazzo succede? Posso capire cosa devo fare? Ma scusami Amongas normale Ma tu che problemi hai? Nova Oddio devo farti Dimmi Sei sicuro di non aver avviato Amongas normale? Perché io sono tutto quanto pronto No no l'ho fatto L'ho fatto Guardami Guardami Guardalo quanto è bellissimo L'abbiamo fatto prima In più persone Sono in 5.02 io Nel chill proprio Eh ma perché non hai fatto L'update dentro Sì Non hai fatto l'update Non hai fatto l'update Non hai ristratato È giallo Non c'è Non c'è Non litigate Non litigate Non litigate Regis anche meno Eh dio caro Non si svegliano Non posso sentire attaccato Anche mentre gioco con gli altri Allora Raga giochiamo normali Fine Niente ma ce l'ho qua pronto Non capisco Cosa di problemi avete No Nella home C'è un bottoncino giallo Eccola la home Sei rincoglionito Eh guarda in basso Si è dentro lo schermo nero Non c'è Che cazzo vedi? Fai vedere lo schermo in stream Fai vedere lo schermo in stream Ragazzi ma cos'è questa Marabbia E si chiama Marabbia per un motivo No Non posso stream Marabbia qua dentro Perché Bertra Ha settato il discord A cazzo di cane Non l'ho settato io Ti pare che Bertra fa qualcosa Scaturisce dall'invidia Nei tuoi confronti Torta Che tu sei fluida E loro no E quindi questa Mancanza di possibilità Io sapete cosa sono Stronza Giochiamo da Among Us Vanilla Si giochiamo da Among Us Vanilla Che palle No mi sparo piuttosto Mi dispiace cazzi vostro Ragazzi Cazzi tua La propositività Fatta chat Ma io ce l'ho qui che funziona Cioè non è che Va bene Allora tu puoi giocare con le mod E noi giochiamo Vanilla Così siamo tutti felici Funziona a tutti È semplicemente no Perché si è rincogionito Ma non è il rage Madonna Ce l'ho qua davanti Solo a te funziona Fai online scusa un attimo A lui da tre mod A noi da due mod Rage Da due mod a noi Scusate a fare una roba intelligente Riscaricatevi la mod Non funziona Ristalla e ristalla la mod Un attimo Ma tu rage Sono le feature L'abbia installato a zero Per caso Sì l'ho reinstallato da zero Allora è quello il problema Probabilmente era reinstallato a zero Io l'ho già reinstallato da zero Adesso vedo se funziona così In caso nessuno deve farlo Capisci rage Che non mancava una mod Non potevamo fare niente A me è strabile Che installare È più facile Scaricatela Stugnetela e rifatela Posso solo dire Navigone C'è il cestino Navigone La parte più divertente È che ci mette Meno tempo A reinstallarla tutta Piuttosto che scaricare l'aggiornamento Non ha senso No no Di spettare 20% In realtà a me andava lento E basta A me l'ha fatto super fast Qui semplicemente Mi scarico da zero Tauno vas Eber Giusto? Sì Baggava Baggava con l'aggiornamento C'ho il server inglese Quindi scarico fast Beh Quante cazzo ne sai Bro Ok fatto Ok Io oggi Sono tre mod È vero È vero È vero Bastava reinstallarlo Ok Reinstallandolo funziona Sono tre mod anche da me Ok E anche oggi Non ho voglia di E anche oggi Ragazzi Il gender superiore È Roma Grazie Ragazzi Grazie mille Grazie mille Finalmente Codice che lo fa Che che fa Il nome di nuova Quando Non lo è più Non lo è più Ma non va bene Vado a comunicare a Michele Che funziona Sto arriviando Ok Che avevo Era la lobby di prima I understand Io sto per finirmi la birra In tutto ciò Play Sti cazzi Mi raccomando Madonna mia Quanto sei poco propositivo Regis Veramente Zitto tu Caccati addosso Vengo a casa Tutti cagò In la cassetta delle lettere Te lo giuro Eh vieni Vieni Che c'è un po' di fame Dammi pure 50.000 euro Michelo Ma chi cazzo Non mi fermi Silenzio un attimo Grazie Michelo Hai disinstallato E reinstallato la mod No ma a me funzionava Hai quante mod hai In alto a sinistra Adesso devo riaprire Perché avevo chiuso Perché pensavo Perché magari non ha preso Neanche il pulsante Per installarle No Semplicemente Lei era installate Ah no ma l'ha installate Adesso niente In stati e basta È vero Tu sei fortissimo Taunovassar Vai Perfetto Perfetto Allora va a tutti No Che gioia Quindi i due gender superiori Sono svizzero e roma Svizzero e roma Alla fine dei giochi Questa è la cosa Svizzero tra l'altro Svizzero e gender superiori Sono impostore E taunovass È già attiva Non ancora No 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 perché Novone sta scaricando Che purtroppo Alcune si bug E scarica Codice paguri Vabbè Parliamo di cose belle Berro quanto è stato Emozionante Per quei pochi minuti Pensare di giocare A Manga Svanilla Ha avuto lo stesso Sapore tipo Di quando Non lo so Mangi qualcosa Che mangiavi solamente Da piccolo Tipo i plasmon Un po' la mattina di Natale Quando stai per scartare i regali Sì omogenizzati alla prugna Quelle cose Anche sul gruppo Whatsapp Ho cercato di non farci giocare Stasera comunque Berro odia Among Us In realtà non sa Perché è qui Ogni martedì Allora Io toloro Among Us Among Us Moddata È una cosa che non posso soffrire Berro Allora però Una buona notizia per te Perché ieri Con Con Edo e Matt Abbiamo provato un gioco Fighissimo Che è ancora in open In alfa tipo Quindi se vuoi Settimana prossima Lo portiamo con te Così Posso sapere come si chiama No mi dispiace Non lo puoi sapere Ok Perché è fighissimo Non voglio essere Esatto Perché questo è il mio pallone Quindi decido io Quando giocarci Esatto Ecco D'accordo Posso essere il tuo pallone Solo perché sei impedito Ti sei guadagnato Un purge Di Vediamo quanti secondi Stai bannando me Dai Berro Scherzo Si chiama Triki Trax No no Berro dimmi come si chiama Si chiama Triki Trax Scusami Si chiama Triki Trax Berro non mi bannare Per favore Ma la lobby attiva La lobby la sta facendo nuovo È il mio nome Ah ma è lo stesso di prima Nova Sì infatti Eh raga No è questo qua Non so Eh lo so che è un po' un coglione È questo qua Non so come sia possibile Ma che cazzo Ma non è vero Manca un numero Per fortuna Eh ma Ma mi hai memato Io mi sono scontata di te Ma no dice che non esiste Non fa entrare Ah perché ho messo Nia Ho messo Nia My bad Sei veramente Signor Dado Dimmi tu Vai Chiedono dalla chat Se sei un D4 O un D20 Non so se te l'hanno mai fatta Questa originalissima battuta Ma te la replico Perché mi sembra Un D4 un D20 Grande perfetto Ho appena finita la birra Me la spacco in testa Dopo questa battuta Anche a me non mi fa entrare Nova È questa è questa è questa è questa è questa è Rania Ora è giusto Ok Questa è questa è questa Cambia il codice Oh Oddio che bello Che bello vedervi amici miei Io vi amo Io vi darai a tutti un gran bacino Un gran bacino Mua 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 Una donna Vieni qui Dado Ti devo dare un bacino in fronte Vieni qui Dado Fa un culo Stavi lontano Cazzo mi sono incastrata No Cazzo ero vicinissima Ero vicinissima Basta gli spazi Ti senti Sei beccato un gran bacino in fronte Ania Ania Daddi mi ha rubato il bianco Finchè non mi rita il mio colore Non te lo do Madonna Siamo in nove Manca solo Michele Che si è dissociato Vabbè disgozzo anche a Irla Ok Chi è Daddy Eh Michele Eh Michele Buonanotte Ciurlo Tieni giù quelle mani Porca di quella Io non penso di aver mai visto Rage Con quel colore di Among Us Capito Perché era Gesù Tu di solito C'è quello che sei Quello che mi ha rubato Daddy Ragazzi vi vorrei dire Che adesso arriva Michele Ma ho aperto la sua live Per scriverle che ci siamo E ho visto Dread Che sta montando un armadio Quindi non so che cazzo sia successo In che senso Te lo giuro In che senso Non lo so Quindi se vado su Twitch Slash Michele Puttini Mi Ma che cazzo Che cazzo Non lo so Comunque bellissimo Perché siamo Siamo nove su undici Nella lobby Sono sicuro che sia stata voluta Questa cosa ma No Così No sta tornando Sta tornando Michele Sta tornando La vedo che cammina Aveva preso una piccola pausa Oh Sciscosing the door È tornata È tornata È tornata Ciao 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 Nova Come stai Come è il tuo benessere caro Nova In un numero da 1 a 10 Tipo Fa molto freddo Fa molto molto freddo Fa molto freddo Fa molto freddo Un progetto eccetera eccetera Allora Ok Una mia curiosità È tipo Quanta gente Ha tipo visto Delle istruzioni criptiche O chissà quali segnali Con il fatto che oggi Fa molto freddo Perché non significa un cazzo C'è semplicemente Che a ottobre fa freddo Ah beh Stai flammando Nova Per la sua storia Posso startare? L'ho già fatto io Sì Starta Starta Vi ricordo No Vi ricordo ragazzi Che Vi dovete cazzo mutare E poi quando siete morti Invece potete stare smutati Darmi un bacio Sì Allora Sono il jester Sì Io amo essere il jester Cazzo Io adoro essere i jester Amo essere i jester russi Io amo essere i jester russi Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry Never gonna say you bye Never gonna tell a lion They search you Ha! Go! Alla raga Pronto Pronto Nooo Va bene che avevo appena finito Di completare la tasca Perché sono impazzito C'era ciurli morta Uh Cocco è stato mutato È stato mutato Silenziato Io ricordo anche da morto Che uso tutti i pronomi Lo so ma io ogni volta Mi prendo ansia Va bene Va bene Charlie Io continuo a farlo Lo apprezzo Lo apprezzo Sburbo Lo apprezzo Allora La questione è questa Io ho tipo Mezzo incrociato un tizio In Davanti al pulsante Però era dall'altra parte Di un tavolo E che scendeva sotto Quindi probabilmente L'ha chiedato lui Chi era? Non l'hai visto Potrebbe essere berro Ma non vorrei dirvi Minchiate Aia Cos'è che ho fatto? Cos'è che ho fatto? Io sono lo sceriffo Cosa è che faceva lo sceriffo? Tu puoi sparare A parte morire In questo preciso momento Perché Ti è appena rivelato il tuo ruolo No raga No Dai Poteva fuori Per favore No raga no No raga no Vabbè dai Schippiamo Comunque Aspetta Lo sceriffo In ogni caso Può sparare Può sparare A qualcuno E se spari a qualcuno Se è un impostore O un neutro Lo uccidi Se no Nada Allora Cioè se no mori tu L'impostore non mi sta uccidendo Quindi la mia tecnica Non ha funzionato No io sono Ah era molto palese Ah era proprio la tecnica Ok Era molto palese Veramente Io volevo dire Io volevo dire una cosa Che poi Poteva sembrare Non parlano Sei morto Volevo spiegare Che stavo per dire Che non mi ricordo Già più tutti quanti A posto così Tanto c'è Michelu Che è nuovo Allora io vi dico Che il mio ruolo Tra l'altro È il jester Per chi non lo sapesse Ma perché non mi fa fare Le tasche Ah sono da ficare Che stupido Mi sono confusa ragazzi Allora il jester Ha il ruolo Di dover essere eliminato Prima dell'incidente Eh sentiamo Avevo ragione Copco Ho incrociato Tu hai incrociato me Dado Ah bro Era bianco Vedi che però Non so Io Allora sei stronzo Mi hai quasi fatto buttare fuori Dalla nave Che hai visto un colore Rispetto all'altro Io ho visto berro Cioè sono stato vicino a berro soltanto Ma berro cosa? Cioè era berro Si sono stato vicino ad anni Allora posso Allora va bene Mi buttate fuori Ma posso sapere di cosa sono accusato? Cioè che cosa ho fatto? Dell'omicidio? Sì ho capito L'omicidio di daddy Qualcuno mi ha visto uccidere qualcosa? Va bene Va bene berro Sei alla corte d'assisi E sei accusato E sei accusato Basta con questa storia della poesia È carina Però hai rotto il cazzo Io ragazzi Non voterò berro Skipperò il voto Grazie No io vorrei solamente Quindi sei pro Al mossa Se mi hai detto Ho visto berro fare cosa Stavo facendo le tasche Sono stato vicino a te E sono stato mutato E poi c'è stato un cadavere lì Adesso Quindi Se non hai incrociato altra gente Prima berro Devi considerare il round prima Io ero stato mutato Io l'unica persona Voi lo sapete che io non so giocare a questo gioco Anche ammettendo che tutto questo Eh ma non c'è bisogno di saper giocare a questo gioco Allora facendo finta che io sapessi giocare a questo gioco Prima E non lo so fare D'accordo Prima Non ho idea di che cosa cazzo è successo Perché sono state spente le luci Quindi chiunque mi sia passato vicino Qualunque comando potesse avere Non ho neanche visto Allora ti spiego subito berro Praticamente C'è uno dei poteri che si può avere È quello di mutare le altre persone E fin qua ci sono Quindi se passi a fianco di una persona E la muti Allora durante quel round Sì non può fare niente Ma allora scusa Perché non l'ho rifatto adesso per esempio Perché non è Allora Non lo so Però non mi parlare sopra Dicendo che lo sai Perché io gentilmente te lo sto spiegando Oh Allora vuoi stare per buttarmi fuori? L'unica persona che potrebbe avermi mutato E beh Tu sei sicuro? Non è vero cazzo Cioè potrebbe essere stata qualunque altra persona Io non so neanche Ricordiamo comunque Che si può mutare Durante tutto il game Brodero io e te avevamo un tavolo E io non sapevo neanche se Quando siamo usciti dal corridoietto No sì Eravamo là della Come cazzo si chiama Di admin io e te Tu non eri a fianco a me Al corridoietto cocco No al corridoietto Non ero su admin Admin Siamo usciti Va bene che laggo Perché c'ho 400 di ping Però Oh madonna Meglio così Meglio così raga Che cazzo ha votato Che noia Che cazzo hai fatto Manca ha parlato Io ora ho sbagliato Sono l'impostore errore Sono l'impostore errore Ora farò questo giro E mi venterò Mi venterò proprio qui E poi uscirò da qui Appena qualcuno mi entrerà Aspetta Eh vabbè è troppo palese E la madonna Pronto No berro è morto Sono estremamente confuso Non ho capito niente Ma Dove era? Allora era davanti a l'elettrica Non lo so la mia tecnica Martino E hanno spento le luci In questo momento Quindi Non era berro Cioè sono passata di lì C'era cocco Sono tornata E c'era i cadavoli di berro Questo è quello che mi dice E stanno andando a destra Aia cocco Io ti ho incrociato Mentre stavi salendo Per cortesia Cocco amè tu si è diventato sussi Nel momento stesso in cui No tu adesso Io voglio che tu dici Esattamente quello che hai visto Perché io stavo scendendo Tu stavi salendo Sono nato a destra E poi dici Stavo andando in elettrica Poi sono tornata indietro E c'eri tu Cioè c'era il cadavolo di berro Però io l'ultima persona Che ho visto passare da lì Eri tu Oh come puzzi di casa Scusami No aspetta un attimo Un pochino Io sono in elettrica Ok sono lì C'era una data mia inseguita da elettrica Perché è uscita E io vi ho incrociato Mentre scendevo E sono nato in elettrica Non so manco dove sia il cadavere E tu stai dicendo che sono stato io Allora senti Cocco Cioè a me mi dispiace Dirtelo Allora se io Vedo che tu passi Poi torno di lì E tu non ci sei più E nel giro di un secondo C'era un cadavere Mi dispiace Ma io ti appuso Ma dove l'hai trovato il cadavere Sì era un elettrica Scusa Nel corridoio fuori elettrica E non è che se tu ammazzi E poi i reporti E dici che sono io Allora tutti devono credere Secondo me Se è il report Non lo so Più che altro L'unica cosa che mi fa dubbio È che prima Cocco è stato mutato Guarda io stavo scappando da te Ti ricordo Perché mi hai fatto un sacco paura Ah vero cazzo Bert È vero che Cocco è stato mutato Cioè sarebbe la cosa più stupida Del mondo È quello È quello che mi fa strano Mutasse il suo compagno Eh invece no Può essere pure una tattica Però Ma quindi rage Rage è una tattica Cosa resti tu? Bert Io spero che ti sparino Mi accorgo Prima è stato mutato L'ha pitato Con le pietre E poi si è smutato E ha accusato Berro che è morto Comunque Quindi già la sua accusa Perché è l'unica persona Che mi era passata a fianco L'altra persona Ti era passata a fianco E volevi accusare un innocente A me Cocco Ok Ok È stato dubbio Il tutto Qualcuno mi può spiegare Perché non flutto Come fantasma Ma cammino? Ecco Devi fare le task Ok Ok Oh ragazzi Questo è difficile Cazzo Non sapevo ci fosse nova Stavo sfattonando Stavo solo sfattonando Non sapevo ci fosse nova Non sapevo ci fosse nova Non sapevo ci fosse nova Non vale Non vale Oh cazzo No vabbè Non ci credo No vabbè Altro self report Vabbè No Non ci dobbiamo Questo è self report Questo è self report Questo sì 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 È self report No no Questo sì Quello di prima non lo so Ma questo sì Ma dici che non lo so Mi la dici anche Stavo facendo la task Non ho visto E dove era? C'era nessun altro Dove? Dove? Non sai nemmeno dove Dove era Cosa dici Non c'era nessun altro Perché? Perché? Perché c'era Come fai a saperlo Perché c'era I pallini c'era Un so C'era C'era solo una zona In cui c'erano due pallini E qual era? Reattore Che cazzo è successo? Ti hai fatto sgamare Con il tuo ruolo Ti hai fatto ammazzare 30 minuti Ripperotti Secondo me Ecco Non è sempre forte Se mi vuoi chiedere E se io mi devo Trasporto Io raffianco a Dado Con i pallini E apparentemente Ho ammazzato un'altra persona Dado ha commesso L'estremo sudoku E mi sono ricompasso lì E io che noia Ti vuoto Vasti Frino Puzzavi Ma puzzi ancora di più Che mi sa che che noia Ha chioppato il ruolo di Dado E l'ha Ha scopacchiato Ma scusate Ma che ne so Ma non è vero Vediamo l'altro positivo Vabbè ragazzi Andate a perdere La partita Quando vi devo dire Nessuno qua si fida di me Va bene Non importa No io mi sono fidata Martina di Whatsapp Martina di Whatsapp No Ma cosa cazzo è Martina di Whatsapp Così amo priv Ma che sta succedendo Ma che sta succedendo Ma che sta succedendo Ma Michelo Michelo Ma cosa è successo Ma vabbè raga hanno vinto Cioè Cos'è successo Ma cosa è successo Non era Non era Non era Non era Non era Era Bertra Ma eri troppo Eri troppo Sospetta Io ero convintissima Io ho votato Cocco Io ho votato Cocco a sto giro Cosa che ho detto E dire la verità Per tutto il tempo Eri troppo un jester Martina Ma non è vero Rage Ma chi è che farebbe mai Quella strategia Ascolta che noia Porco due Quando ti sei spacciata Per sergente Stavo per decapitarti Sul posto Perché il sergente ero io Sono creato che sono Scarso Ho detto Non posso dire io Di essere il sergente Se non muoio Ma questi stavano Per buttarmi fuori Di casa A caso Senza che avessi fatto niente Non è a caso Scusami un attimo Ti passo vicino Sono l'impostore Secondo te Non devo accusare te Ma ho capito tu Ma quegli altri Cazzo che pendono Delle proprie Ah si Berro Ha avviato l'attacca Ma è vero Abbiamo schifato tutti Ma siete stupi Berro sai qual è il problema È che tu eri bianco Cazzo Sopravvalutare la mente Lise Ma Ma chi dici Ma che dici Ma che sta a dire Ma che sta a dire Ma che mi dici Mettete di ammazzare Le persone Mentre si passano La task Ma che c'è Porti tutti in elettrica No 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 Io sono entrata In navigation E c'era Un cadavere E un altro Che è caduto In quel momento Allora io posso dire Che non è Anch'io Totta Anch'io Eh lo so Era ma noi due Non è sburtra Eh io ero in caffetteria Quindi lo vedo Sto appena T'ho appena visto Entrare Dentro Perché altrimenti rischio Che mi uccidano Gli impostori Ah no Hai già detto troppo Io ho visto I pallini Ma non colorati Normali Ok Non colorati Vrei Bella questa sottolineatura Non ho capito Sì Va bene Lo dico Per l'impostore Se vuoi votarmi Spia Perché Rage è mutato Scusa No no È un bait È un bait È un mega bait Non sono né Rage Né Bertra A meno così Vi dico solo Non è Rage Non è Bertra Non è Dado Non è Cocco Rimani fuori Totta e Berro Grazie No ma io Io ero Charlie Raga Berro e Ciurli Ascolta Amico Dove è stato trovato Questo cadavere No ragazzi Vi dico Come è andata La situazione Secondo me Dove eri Totta Io ho visto i colori E ho visto i pallini Io eri in navigation Con Charlie Non ho visto Totta Ma si è detto Che è morto qualcuno davanti Confermo Perché io ho sentito Rumore di squarto E poi mi è uscito Il tasto del report Raga Dove minchia Dove minchia Erano i cadaveri Allora ragazzi Io ho preso I dati da caffeteria E sono andato su admin Come cazzo ho fatto Ad andare in navigation E uccidere qualcuno Mi sono teletrasportato Con i poteri Son Goku Confermo Berro dice la verità Una domanda importante Totta Telli Monotella pesca Eh dipende Allora San Benedetto Pesca E sta te al limone Ok No 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 Schippate Schippate Ho già votato Totta Ma che cazzo Volete da me Io ho votato Totta Ti preferisce il teletra Al limone Palesemente un killer Limone maggiore di tutto No te al limone Uguale killer Minchia Te al limone Dai Te al limone Uguale killer Ti prego Un tiebreaker Oh no no Oh no no Ma come è possibile Il tiebreaker Ah E godo E godo Ma che tappi Il pesca vince Ero il veterano Eh lo so Martina era l'altro impostore Insieme a me Ed è morta Cercando di uccidere Charlie Era una potenziale doppia Potevamo fare tutto bellissimo Ma era Era tutto bellissimo Cioè pure Charlie Era dalla mia parte Nonostante avesse ucciso Davanti a lei No ma è perché Io pensavo fosse morta Martina Lì Non anche Ma che ridere Ma veramente Mi vedete Ejectato Perché sono Tim tè al limone Esatto E poi ho detto Pure tim tè alla pesca Eh non è che Si dice entrambi Allora Ti piace entrambi Ragazzi Allora Hai detto San Benedetti alla pesca E l'estate al limone È vero Ma l'estate al limone Sa di culo Quindi evita di dire stronzate Vero Ha ragione Il limone è buonissimo È buonissimo L'estate al limone è molto più buono Dell'estate alla pesca No va il prossimo a morire Allora In generale fa schifo Andiamo a pistola Eh raga Io me l'ero giocata bene però Io me l'ero giocata bene Cazzo ragazzi Io me l'ero giocata bene Non è colpa mia A questo giro Possiamo dire che non è colpa mia Io me la sono giocata bene ragazzi Io me la sono giocata bene Sono fiera di me stessa Vabbè Self report per forza Self per forza Io ero ancora in caffetteria Anch'io Eravamo tutti quanti in caffetteria Verso il basso E buonanotte Io però non sono bravo Come faccio sta roba? Non ho visto chi è che ti ha ucciso Eh Berro Io sono sceso un secondo dopo E' morto Che l'ero giocata Che l'altro di caffetteria? Allora Berro Sono due le opzioni O tu hai visto il killer Perché è scaduto il cooldown E ha ucciso E quindi l'hai visto per forza Oppure l'hai fatto tu Cioè sono proprio due le opzioni Non hai tempo materiale per scappare Allora Io non avevo tutta quanta questa visuale Quindi non so se hanno orto le luci O che cazzo ne so io Io stavo andando da caffetteria Verso admin E c'era Che cazzo è? Cocco Che tipo proprio Ha smesso di esistere In quanto a Mogus E me lo sono trovato Perché erano solamente le gambe Era sceriffo Era sceriffo Si è sparato in bocca da solo Ok E ho visto praticamente Un'altra persona Che andava verso sinistra Verso upper engine Ma non so chi sia Ha sparato a nuova Spiegatemi un attimo Cos'è successo? Cocco Hai comunque fatto bene L'avevi fatto anch'io Spiegatemi al volo Cos'è successo ragazzi Probabilmente Io stavo scendendo E c'è Cocco Che ha smesso di esistere Proprio è diventato Un paio di gambe Decapitate Bertra cosa? Che probabilmente Cocco Ha sparato in bocca a nuova Ed è esploso Cocco Esatto Ha sparato a merlo sceriffo E confermo Quindi sono safe Grazie Non lo so Io non mi finisco E se ero con te Rage pure Era pure con te Nova è ancora vivo Da sceriffo Sottolineo Nova è ancora vivo Da sceriffo Ed è vivo Ma cosa vuoi baitare? Scusami Abbiamo appena detto Che coca Ma che chiesto è che mi vuota? Ma l'improvviso è Nova No È che sono salvo Vuol dire È che sono sparato È morto Sono innocente Lo so Lo so Ma Ci ho provato Regi Ci ho provato Vaffa al culo Merda One door stand Never gonna give you up Never gonna let you down Ora io dovrei trovare I Merda Cazzo fa il berro Mi sussi Mi sussi Bucky Ciao Sì Ciao C'è il Freeport Tu cosa? Gli è morto addosso Un altro sergente che si è suicidato Ma quanti sceriffi ci sono in questa partita? Non so Io vi posso solo dire che mi è morto addosso E Vi posso dire che era Non vi posso dire chi era Però era un ruolo Che ti è morto addosso? Eh? Non ho capito Vi posso dire che Nova in questo round era sceriffo Oh Era limitatore E cocco che cazzo era allora? Era limitatore Dai Non ci usa il cervello Era morto Quanti E basta Eh ragione scusa È vero Ma stirato addosso nel corridoio tra weapons 2 Sarà che prima l'unica volta in cui ho provato a utilizzare l'imitatore non funzionava di nuovo Davo per scontato che non funzionasse neanche oggi Ma basta cliccarlo una volta non so che problemi hai Ma stirato addosso raga posso tatuarmi questa frase ti ho tolto permesso? Sì certo ovviamente Grazie Ci sono Ci sono entrambi Manu Io al momento sono la fra che ruba il ruolo ai morti Non mi sono mai mai letto in tempo Non mi sono mai letto in tempo Mi sono stata l'amnesia che preso a vedere il mio dottore Mazze e fortuna Michelone che sta a fare? Michelone cosa stai compiendo? Quale atto hai scelto di compiere? Michelone Perché stai lì fermo e poi è partita l'emergency? Michelone devi dire qualcosa? Eh Michelone dimmi Dimmi un po' Michelone Dimmi un po' Michelone C'hai qualcosa da raccontarmi Michelone? Michelone mi sa che potrebbe avere effettivamente qualcosa da raccontarmi C'ho un po' questo sospetto Questo sospetto Non so se avete Mi sto scagando nella mano Sono qui da sola Va bene Allora mi scago meno nella mano Raga è successo una cosa strana C'era il tasto report ma non c'era il corpo Il tasto kill No c'era il tasto report ma non c'era il corpo Ah lui non si è sparato addosso a tell il corpo E' già un buon segno Era direttamente inesistente C'era solo il tasto report Stavo facendo una tasta in ossigeno All'angolo di ossigeno E mi usciva il tasto report ma non vedevo il corpo da nessuna parte Beh Che dire Che bello era il giallino Sì L'unica persona che ho visto lì è stata Martina A Weapons Che non so se la tasca è quella degli asteroidi E per più persone Cioè è effigente E allora forse stava facendo quella Perché l'ho vista ferma lì per un po' E basta Ma quindi sono palesemente totta e bertra Bertra ha di nuovo fatto lo stesso giochino con totta Che ha fatto con coccola Che nuova tu hai risolto Hai risolto ossigeno sopra Ma totta non è mica Sì ho fatto io ossigeno e c'è passato rage da lì Sì ora Cioè chiunque voglia insultare totta lo può fare È vero Non può parlare Posso anche io che sono morto No è morto no Che palle No è passato Ero con Berro credo Ed è passato rage Quindi potrebbe essere rage Che noia Ma che cazzo di problemi hai? Perché è finito l'ossigeno E io sono stato tutto il tempo a sinistra della mappa Com'è possibile che fossi ancora lì? No tu non sei mica venuto a fare ossigeno Però poi sei tornato indietro Perché hai visto che l'ho già risolto Esatto Eh ma questo è successo sei anni fa Cioè Posso chiedere soltanto Le persone che erano lì in quella zona Visto che è morto Berro Ma posso solo chiederti dove Più o meno indicativamente Poteva trovarsi il cadavere Che non me lo ricordo più Ossigeno 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 All'angolo tra ossigeno e weapons A me viene da dire che possono essere O che noia O un self report O e rage Io ho fatto l'emergenza in ossigeno E in quella zona c'era Berro Poi mi sono messo a fare gli meteoriti Di certo dopo che ho fatto un assassino Non mi metto a fare la task Di intentare Eh ma che noia ce l'ha un po' il braccio Guarda qua che muscoli No madonna ragazzi Se è possibile che oggi non mi crede nessuno E' vero ragazzi Era ferma lì Era ferma lì Effettivamente non ha molto senso Se hai appena cito C'è là c'è là Vabbè ragazzi Io non ne posso più di voi davvero Nessuno mi crede E' l'unica volta che sono impostore Mi vengo ammazzata Da un Boh davvero Non vederà Io ti ho Io ti ho creduto Non vederà Incredibile ma ti ho creduto Sono lo sceriffo ora E secondo me Lei mia prima mi ha mutato E io l'ammazzerò E io ammazzerò Michele Perché prima mi ha mutato Io lo so che la pupa prima mi ha mutato Che palle Self Palesi Allora Fermi Palesi Michelle era Ma? Ma anche tu lo vedi? Sì Allora Michelle era l'impostore Michelle era l'impostore E l'ho ucciso perché io sono sceriffo E Rajesh è l'altro Ma perché? Come così Perché ho finito le tasche con l'hunter Che il primo che muore Innocente diventa un Ti ho cliccato almeno 7 mila volte Cocco non so Allora Come hai fatto a stagare Among Us Non ancora lo so Ma invece Bertra Perché hai scritto ti odio? Ho vinto Perché pensavo mi avessi ucciso tu No Ho ucciso io Michelle Perché prima mi aveva palesemente mutato Ho proprio vinto Mi ha appunto l'impostore Della seconda volta che vengo ucciso Come sto migliorando cazzo Sono proprio bravissimo Cosa Michè? Io non so come si gioca Quindi non capivo Ma come non sai come si gioca? No non ho mai giocato M'ho dato Non so Ma ora lo dici? Ma non è vero Io l'ho detto un sacco di Allora ragazzi Ripassino Di come funzionano le mode per Michele Allora Michelle Ti giuro Ti sono tanto vicino in questo momento Ti voglio Ti abbraccio forte forte Allora Hunter Muore per primo Respona Il primo che muore Ragazzi però magari Non Cioè spiegate Non si capisce Uno sopra l'altro Esatto Vuoi andare tu Nova? Un po' più in depth L'Hunter è il primo che muore Rinasce come fantasmino Che deve fare le task da zero E una volta che le finisce I nomi degli impostori Sono rossi per tutti Gli impostori Se vedono un fantasmino Possono andarci sopra E cliccare Giusto? E ucciderlo Sì Più o meno Ho cliccato 28 volte Sì anch'io prima Ho cliccato 28 volte Su Eh non funziona Devi saltarli addosso Più o meno Eh devi Tipo killare quasi Poi vabbè c'è L'investigazione L'investigatore è quello che vedi Ormai andiamo a bomba Non ti sprecare Tanto mi dimentico Devo giocare A me faccio Faccio velocemente Hunter muori Devi fare le task E non farti sgammare Dall'impostore L'investigatore Vedi i passi per terra Spia Vedi i pallini colorati Da admin Trapper Metti le trappole per terra Chi ci fa sopra Poi a fine partita Sulla chat Vedi che ci è passato sopra Minimo tre persone Lo sceriffo Puoi sparare a chi vuoi Ma se sbagli Persona muori Quindi sei innocente Mori tu Veterano Attivi uno scudo Che quando attivo Ti proteggia tutto E chi interagisce con te Muore Quindi se c'è l'attivo E un medico Ti mette lo scudo Muore lui O se è un assassino Ti provo a uccidere Muore lui Vigilante Puoi azzeccare i ruoli Durante il meeting Medico Puoi mettere lo scudo A una persona Imitatore Il turno dopo Che sei Che una persona è morta Puoi rubargli il ruolo Basta cliccare una singola volta E il profilo Deve diventare blu Lo dico per dado Poi Di neutrali Abbiamo il gesture Che è il pagliaccio Deve farsi Spravere Deve farsi cacciare Quindi tu devi Se sei il gesture Devi convincere gli altri Di essere l'impostore Al punto che vogliono cacciarti E quindi Se tu vieni eliminato Sei l'unica che vince Di tutto il game Oppure semplicemente Non fai un cazzo Come ho fatto io Già mi volavano Butta fuori L'amnesia Che invece Non hai un ruolo E quando trovi Un cadavere per terra Di cliccare il punto di domanda Prima di riportarlo Non ho mai capito Quei ruolo Peraltro Rubi il ruolo La persona per terra Considera Rubi il ruolo È un imitatore Però molto più Esatto Prima di andare A riportare Se ti trovi un cadavere sotto Poi in alto a destra C'è un pulsantino Che ti fa prendere Il ruolo Lo so Io prima sta cosa Prima che mi eliminassero Brutalmente L'unica cosa È che non ne capisco L'utilità Cioè non so come può essere Mi prendi un ruolo Va bene Allora le domande filosofiche Non mi importa L'importante è che sappiate cosa fanno L'utilità Muore un assassino Gli rubi il ruolo Cioè Esatto L'imitatore non può farlo L'imitatore non può far sta cosa Muore uno sceriffo Puoi suicidarti meglio L'impostorine Abbiamo il granadiere Che lancia delle fumogene O flashbang Quello che sono E quando Chi è dentro a questa flashbang fumogene Non vede niente E quindi Se non può uccidere Morfling Può trasformarsi in chi vuole Quindi trasformatemi in totta Se siete in quel ruolo Esatto E il blackmailer È quello che hai fatto tu prima Esatto Prima hai deciso di mutare Quindi ad esempio Se tu sei il blackmailer E sei anche l'impostore E qualcuno ti ha visto fare qualcosa di troppo Allora lo muti Così sta zitto al prossimo round Però ti devi ricordare Che poi al round dopo Può parlare Quindi se lo vuoi Tenere zitto Lo devi rimutare Per sempre Lo devi ammazzare Ultimo ruolo L'Undertaker Può spostare i corpi È sempre un assassino questo Esatto Che può nascondirla anche nell'evento E non può andare nell'evento Ciao Perché In ogni caso C'è scritto una piccola fresetta Sotto ogni ruolo Quindi ti può dare un po' Un'indicazione Ok Sono moviti da No Avvicinatemi a me Avvicinatemi a me Io imbazzisco Mi prendono i 5 minuti Se io sto sola in una stanza con qualcuno A me mi prendono i 5 minuti Imbazzisco ragazzi Imbazzisco Dov'è fuori di matto Grazie mille esperimenti Cosa fai? Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell the lying And hurt you Never gonna make you cry Non c'è veramente pace per i dannati Nova e cocco fottutamente defunti Dov'è? Dov'è? Allora ho trovato quello bianco Sopra a sinistra E dietro di me c'era qualcuno Ma non mi ricordo chi Berro non può essere perché era tutto a destra E l'ho visto Sì Aspetta voglio dire un'ultima cosa importantissima Oh no Sui ruoli Ti conviene non dire il tuo ruolo Perché se gli impostori possono scegliere Cioè possono Ok va bene basta questo Allora io avrei una call da fare Vai dad O meglio mi servirebbe che qualcuno di voi mi dicesse il luogo esatto del cazzo di morto Che so che è a sinistra ma non ho capito dove Verso la cosa delle videocamere Ok allora potrebbe essere totta Perché io? Abbastanza Io ero in admin Stavo facendo la tessera No Sì A sinistra non c'era praticamente nessuno Io ero ad admin Stavo facendo la tessera Fine Non c'è una propzione a questa cosa Io ti ho anche incrociato in admin Ma tu hai ventato da telecamere Sei andata in med Da med sei uscita Sei finita in admin Ma che cazzo amici? Ma non ho mai fatto nulla di questo Assolutamente Scusami quali sono le tue teorie per dire Dado merda Questa cosa Sono una spia Ho posto Beh Ma io in realtà ti volevo votare prima del bait sai Rage che è assoluto clown Puoi riconfermare questa tua teoria Ora che il bait ha funzionato la vuoi smentire? Non so che capire se votarti In realtà era divertente lanciare accusa a caso No 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 non era a caso Cioè allora l'accusa per la mia visuale Per la mia visuale ha anche un senso Però potrebbero esserci Mille incroci Un impostore è già morto Schieppiamola Sì ma in ogni caso io non sono mai andata a sinistra Cioè ragazzi Io Ora Dado ha detto di essere il detective Che vede passi E quindi Rajesh ha confermato il suo ruolo Però in realtà Dado aveva mentito E quindi è morto Rajesh Allora io avrei una robetta da dirvi Fate attenzione a totta comunque A prescindere Ma chi vuoi? Quello sempre nella vita in generale Che sospetta cazzo Madonna quanto ti ammazzo ora Ma Ma ammazzami solo Sono solo che contento Sì sì avvicinati a me Avvicinati a me Vedi che fine fai Io vado a fare le mie cazzo di cosette Porca troia Guarda se qualche Fallito Capisce il mio ora Ti ammazzo come un Oh me ne me ne me ne Allora Chechino Porco troia Io impazzisco Oh 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 Io odio la terza No impazzisco Io impazzisco Ero da sola come un'altra persona Subbio Ok quindi Kenyote E safe E minchia Ora c'ha questi 20 secondi Dove non mi posso più proteggere Dove sono in balia di tutto E tutti No il memory no Il memory no Scusati E cioccato Sburba In admin Morto davanti a Dove controlli Di posizionamenti In admin E' bello che L'ho incrociato 5 secondi fa Devo dirti dove sono morto Non credo No Però Allora Io L'unica cosa che mi sento dire È che mezzo Mi sento di vauciare Perché Perché me poteva ammazzare Ma non l'ha fatto Secondo me Self report Ma che cazzo vuoi Che è Non mi romper cazzo Guarda Tutte te li trovi Tutte te li trovi Oh senti Allora Allora Io ti amo Sei mia sorella Io ti amo Sei mia sorella Però se mi screzi Così mi arrabbio Guarda 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 non lo so Totta Allora A fianco a noi Ma tu pensi che una persona A cui abbiamo spiegato Le regole Dieci secondi fa Ha fatto questo ragionamento Dado Sei tu Tu prima mi hai voluto Inculacchiare così E ora stai andando contro A Michelona In queste grandissime tattiche Ha fatto ammazzare L'impostore Non può essere Dado Hai ragione Hai ragione È vero E allora Sei te Daddio sborraste Mi spiace Ma io ho bitato Ho bitato Riggi O daddio sborraste qua Io raga Non ho capito No scherzo Eh Charlie No stavo facendo Il memory raga Ve lo giuro Infatti sono molto arrabbiato In questo momento Perché io odio Quella task Ero da tutt'altra parte E ho visto Berro In admin Che sta facendo la carta Forse Poi ho fatto la carta Oh Berro Sta in sito Sei morto Scusate 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 Ho visto Che ci ho messo Mezz'ora Poi finalmente Sono andato A fare l'altra task Oh 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 Voting is ending Eh io Ciao Votatemi se volete Almeno non faccio il memory Io ti avevo votata Grazie Prego Devi fare lo stesso Anche da morte Che palle L'odio Sì Ma raga Ma c'è Non mi dicono Che La motivazione Che sia Michelle Che non ha cliccato Cioè Me la sussa Me la sussa pesantemente Poi questo qua Cioè Qualcosa da investigatore Eh Secondo me È quel gran dadone Sì da dieciarli Cazzo 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 le luci Non andate nelle luci Non seguite la luce Merda Non seguite la luce Sono pazza Sono pazza Ammazzatemi Sono pazza Sono pazza Ammazzatemi Che culo Che culo Che culo Che culo Che culo È dado È dado È daddy È daddy No raga Io ho finito il memory O è daddy O è Michelle Qua perché Allora Allora Io sono corso Verso il memory Dovevo fare il memory Ok Sono andato lì Martina è rimasta bloccata Che L'ho usato Luca Poi l'ho persa di vista Ragazzi Credetemi Io so chi è È che noia No Allora È Michelle È Michelle No raga Chi vuoi di quei due Allora Io ho visto Che noi Uccidere Dato davanti a me È stato Devastante Vabbè Michelle Ok Quando vai No Ma quando vai Vabbè Ma dato è vivo Vedrete 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 Cos'è Io Hai visto uccidere No l'altro L'altro Chi è che è morto Non lo so Uno dei due L'altro che è morto L'hai ucciso te Ma lo scoprirete Tra pochissimo Guardatemi se volete Per me non è un problema Io non ho parole Io perci Io ho già Io ho Prendere Prendere E puntare Io non so Io sono Gigi ragazzi Gigi Gigi Ma È palese Ma l'ho capito Palese Che gesterata Michelle Puttini Mamma che gesterata Oh Non volevo farlo palese Però mi avete Era che doia davvero Raga Non ha gesterato Cioè Ero io Ma Ma Martina Eh io Ho ucciso Totta davanti All'altro L'ho silenziato Non ci potevo fare C'era anche Michelle nella botola C'era più che altro Ma Ah c'era Michelle nella botola Eh vabbè Allora Che noia Tu lo sai che sei Sopravvissuta Semplicemente Perché io sono rimasto Tipo folgorato Per due tre secondi In cui non capivo Per quale motivo Me l'avessi sgozzato Davanti Così Cioè Io sono proprio Rimasto Stunato Ok Io sono Black Myler La mia vita Ma a voi piace tanto Interrompermi Mentre faccio le tasche L'unghi Putta la merda Calla Calla Non ce la posso più fare Bottonberry Bertone Bottonberry Ero al bottone Cazzo ne so Io vedevo ancora Le luci spede Cazzo ne so Eh io E non lo so Ero agli pallini Stavo guardando Ho visto dei pallini Ben troppo fermi In posti strani Per le luci spente E ho detto Mi sono cagato sotto Ho detto basta Va fermato Eh scusa Ho ammazzato due persone Poi Poco Non stiamo parlando Delle tue scuole superiori Io vado Qua Bertra Te al limone O te alla pesca Eh Coca zero Eh questo cosa significa Berro potresti pensare Di fare due giochi Contemporaneamente Tanto più diri poco Tendenzialmente Ti al limone Io sapevo solo Cosa significa Sete al limone Tendenzialmente Ti al limone Eh no Però prima ho detto Coca zero Allora Se mi stai cacciando Per questa cosa Dopo che ho cercato Di pararvi il culo Vedendo i pallini Io vi giuro Ve lo giuro Oh Bertra Cioè ci sono state due kill Peggio di così Non poteva andare Quindi mi sembra Che gli ho dato più di tanto Ho fatto qualcosa Ci ho provato Ci ho provato Wow Bertra Sei proprio un uomo Ettero bianco cis I tried È vero I tried Posso fare Quello che potevo Dici Nova Sì No Nova Tu hai capito O sei tipo In alto mare In generale In alto mare Ho capito Vabbè No no ho capito Ho capito Ho capito Ok ci siamo Siete matti Ma perché votate il cester Oh Ma perché mi votate Ma infatti Che votate il fanno Il cester Perché sei troppo bello Bertra Per esistere Ad un buona Lee Forever Cos'anno A believing In pain Ah ok Ah capisco Eccola qua Voglio sapere una cosa Ragazzi miei Che noia Quando sei uscita c'era Daddy? No E' perchè l'altro cadavere è dentro Telecamer Ah E raga è totta Così Io scusami fermo un attimo che è successo È totta Ma è facile totta te è limone o te è la pesca Ora io sono sempre te è limone Però non voglio che questa cosa mi preveda qualcosa No invece prevede tutto Non posso dire perchè non posso dirlo Però secondo me è totta Potresti dirlo invece Vabbè parte sicuramente dall'indizio Che io passando da telecamere Ho visto totta e Bertra Entrare insieme da soli in telecamere Poi sono andati in elettrica E mi è venuto in dubbio 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 No camminando Camminando E' ancora possibile E' perché Noi hanno avviso dentro Ma si che mi ha visto Era lì Ma Martina assolutamente dice che non mi ha visto Dico una cosa Totta Io ho visto dei passi Entra nelle ventole Eri a fare La prima volta che sono tornata Non c'eri più Io sono Quando è stato chiamato il corpo Io stavo facendo la task Quella proprio sopra la vente Adesso Eh no La mia polla è inutile Quindi a me è schifo Non ho capito Però c'è quando sono Cioè tu eri dentro Poi sono tornata dentro Per vedere se Rage ti aveva ucciso Ma non Cioè Rage usciva Ma tu non c'eri Ma io sono rimasta Adesso che è stato chiamato il corpo Io sono in prima elettrica Stavo Stavo facendo ancora Non sono mai uscita No se volete Se volete votatemi raga Sono felice di prendere una pausa Da questo game Però secondo me è totta Sussi Molto assurro Non lo so Io ti ho votato solo perché Mi hai scherziato così inutilmente Va bene ci sta Ci sta Sono felice di fare le mie task Anche da morto Così me la cello Tu nuova Che hai qualcosa da dire Eh guarda Visto quello Io Dio Io l'ho detto Che ha sentito Ho già votato Io non posso dire Io non posso dire Perché Perché Ho i sospetti Sotto Ah vabbè Eh vabbè Tidebreaker Tidebreaker Vediamo Tidebreaker No 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 Vabbè E niente Vabbè Poteva Poi bene Allora Vabbè bomba io non volevo aiutare gli impostori ma ho ucciso io la prima persona sono triste ah ciao michelo perché tu chi eri bertra il juggernaut stavo per ucciderti totta prima che tu mi uccidessi io vorrei dire che comunque ho giocato bene una partita impostori per la prima volta della mia vita sono felice grazie ero l'investigatore e quindi ho visto l'investigatore mi è uscito che sono io l'investigatore modifier frosty live behind the nice surprise sfaccimba significa questa cosa ragazzi dei piedini noto dei grandi piedini ragazzi posso dire è stata la prima partita che ho giocato bene da impostore sono estremamente felice sono estremamente felice non so che altro dire sono proud ragazzi sono pure un po' emozionata ve la devo dire tutta arancione e nero ok sì sono abbastanza emozionata cazzo non mi è mai successo sono felice di qua non c'è passato nessun bel ragazzone non c'è passato nessuno non c'è passato nessuno non c'è passato nessuno veramente non c'è passato nessuno E non voglio questo Per Ehi, Niki Il cadavere violu Il cadavere violu Dov'è il cadavere violu? Avvicinati ancora a me in quella maniera E ti faccio fuori Davanti al security Davanti? Io sono andato al security molto poco tempo fa Io stavo guardando le telecamere Security? Telecamere Io ero a telecamere fino a Relativamente poco tempo fa Scusa, l'ho ammazzato e poi l'ho riportato Ah ok, grazie Cocco Hai fatto bene Cocco Scherzi a parte, me ne sono andato Eh, che scherza Adesso ti ammazziamo Ti facciamo fuori adesso, Bert Nessuno scherza C'è scritto always sus Sus is so Sì, va da Cocco Allora, io posso testimoniare Più o meno abbastanza in favore per Nova Che abbiamo fatto quasi tutto il round insieme Quindi Patato Nova Quindi è innocente Di impostori ce ne sono due quindi Di impostori ce ne sono due Ma evidentemente uno non è un bravo Cioè, fra i tre morti Uno non è un bravo sceriffo A questo punto Ah, questo è quello che credi tu Ah, hai ragione, scusami No, mi sai dire che cosa sei, scusa? Io No, 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 va, no, va Eh, sicuramente Sparami, Cocco Vai, ti sfido Ok, fa ridere a me No, no, mi sai dire che ruolo sei? Eh, cima del 50, sparami Bro, sono l'imitatore Eh, lo sceriffo, non è vero? Tu lo sei? Tu lo dico Cocco, dove sei stato fino ad adesso? A guardare i pallini Perché il mio lavoro È quei pallini Non è vero, non c'è ridere L'uomo dei pallini? Ero a pallini E poi sono sceso per prendere il cadavere Se ho muovito Ecco perché è figato Movimenti strani Ogni volta che entravo lì dentro Ti trovavo, cazzo Non eri FK? No Stavo facendo un sacco di pallini Stavo, stavo osservando Sì, sì, lo vedi Sì, io vado La mia università è in Baker Street, ok? Sherlock Holmes mi chiamano Sherlock Holmes Madonna Quindi, io so per certo Allora, raga Io lo skipperei Che una è nuova Perché qua stiamo Qui stiamo C'è schiando C'è Coco il jester Perfetto No Sono lo sceriffo Cocco lo sceriffo Sparami allora Lo sceriffo spia Sparami Cocco Spara tutto quello che vuoi A voi Cocco è l'uomo definitivo A tutti i ruoli del gioco E nessuno contemporaneamente Ahia Ciao 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 Raga che fa l'amnesiac qua Sì, non c'è bisogno che dici niente Distrutta subito appena lo confermo No, non è Dodo Non è Dodo Ma come no Non sono io No, ma tu non riesci a fare più nulla Io ti sto attaccato al buco del culo Ma stai a metà accato Uccidimi Uccidimi Ah, ma non sono lo sceriffo Te l'ho letto Sono guardapalline Figato Quanti sceriffi ci sono Devo farmi le quest Cavoli Ammazzami Nova che fa le quest Non ci credo neanche se lo vede Sì No, ma io lo schipperò Io continuerò a seguirlo Fino a quando la mi ammazzo Ci sta E ti dirò di più E ti dirò di più Mi unisco pure io Vaffanculo No, no Difficilmente Te lo spiego io Che non ti avvicini Dodo Sborrast ha ucciso Sburba Fine Sborrast è stato uccisa E' italiano quello che ho detto Sveglia Sì, confermo Mutatevi Merde Che palle Io non posso fare Perché devi mutarmi Sono morto Comunque cazzo Abbiamo fatto un ottimo Primo round E poi A caso Mi ha deciso di puntarmi Michele Ma chi è l'altro? Cosa vuoi da me? Scusa che sono morto per primo Non facciamo niente da tre partite Tipo Michelo Ma tu sei morto per primo Sei il fantasmino che spotta Io ti odio Bertra Mi hai ucciso Non si fa così Io sono il fantasmino che per primo spotta Io ho scritto un libro oggi Ho finito di scrivere un libro E questo è Esatto Ok Dovesti scrivere un libro su Among Us Non ci penso però Adesso 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 Dodo sta Accollatissimo a Nova Come nella vita reale La vedo grava La vedo grava Ma perché Michele ha detto Che all'altro era Dodo? Non ho capito Boh avrò sbagliato Comunque mi ha cercato di scu... Oh porca troia Vado? Vado? Perché hai premuto il bottone per evitare... Si annoiava No perché ho visto una roba un po' strana Cioè tipo qualcuno che entrava dentro una botola però Oh e può essere jester E chi hai visto dentro una botola? Devo veramente dirlo ragazzi Dillo Dillo Allora se vuole quella persona può dirlo ora Ah vabbè ok Dato di lei basta È una donna particolarmente forzuta Di colore rosso Ok Ora ti dirò una cosa in più Chi sa chi è? Ti dirò una cosa in più Se muoio E che noia E invece no Era effettivamente quello che stai vivendo Dato Quindi no Addio L'altro è Nova? Tu sei sicuro che sei il jester Nova? A me puzza di Bro io sono l'impostore Ah scusa Ok hai votato Nova Beh apposto allora Voto Nova allora Non ho capito Anche io mi voto allora Ogni tanto comunque avete delle tattiche decisamente troppo avanzate per noi comuni mortali Tipo questa cosa Io non ho minima idea di cosa cazzo sia successo in questo momento Nemmeno io Cioè che noia è morta? Allora è Nova Ma che cazzo? Allora È semplice Io ho detto sicuramente sei il jester Sennò ma si vuota così Fidiamo stu fighe di game Te lo spieghiamo bene che cosa è successo Ecco grazie Sei riuscito pure a sbagliare Riuscito pure a sbagliare il vigilante Molto semplice Ma perché mi è uscito defitto? Non ho provato Non ho capito Che ruolo eri? Il ruolo neutrale Dimmi che ruolo eri L'amnesia è amnesia L'amnesia è che se non prendi un ruolo Perché è neutrale? Perché se non prendi un ruolo dal cadavere È una bella merda l'amnesia Quindi spiegatemi ancora quest'ultima tattica che devo grasparre informazioni Io ero quello che poteva scegliere i ruoli Aspetta un attimo Bellissimo Stiamo parlando di cose serie Un attimo Ero quello che poteva scegliere i ruoli degli impostori del jester Dado e Rage Ero certo più o meno Rage sì perché era il medico Dado non lo so No ma non lo so Se da dove dice una botolato dico Provo il jester se muoio è lei Punto Allora calcola che io ho visto che noia Ed ero sicuro di Cocco semplicemente perché Cocco se fosse stato il cattivo mi avrebbe votato Mi avrebbe distrutto perché Cioè sono stato ai pallini un'ora e mezza tipo Ma ero io uomo pallina Comunque io ho una domanda Ho una domanda per Michele Perché hai deciso di uccidermi? Ha fatto bene Perché è così che funziona il gioco Berta praticamente Avevo fatto una cosa di esclusioni Due erano insieme Io sono sempre stata con Rage e Ash Ho detto o è Cocco ma mi sapeva un botto di jester E gli altri due Infatti volevo ammazzarvi entrambi Puoi uccidere anche il jester Mi sono dimenticata che c'era quella stronzata Del se scegli il ruolo o ti uccido Per quello Era proprio per quello che ti ho detto Guarda ho capito tutto Tutto a posto così E poi tu ne si uscita Avete pagato bene le tasse Comunque la risposta a quella domanda è no Cosa no? Le tasse Ma spiegate quella cosa là del tè al limone e il tè alla pesca raga Che io sono scarso Il tè al limone va schifo Allora se uno risponde al limone di base psicologia è l'impostore È l'impostore E invece risponde con Cazzero e jester È proprio la mod che ti cambia il ruolo Diventi impostore se risponde al limone Ovviamente proprio rileva i vocali È perché dicevo IRL sei un pazzo psicopatico se bevi il tè al limone Esatto Tu vai in giro e incontri uno che beve il tè al limone e sali lontano Io lo bevo È un trucco assolutamente da pazzo Questa cosa mi dispiace Questa vostra informazione 100% di will rate Impossibile sbagliare 100% verità poi Ciao Michelo Ciao 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 Mitch Ciao Ciao Io però mi sento di dire che le vostre teorie sono estremamente riduttive Perché ci sono alcune marche che hanno una netta superiorità rispetto ad alcuni Mi fa piacere Se sei il killer apposta ti ammazzeremo Mamà 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 C Shu u mia Che differenza c'è tra l'imitatore e l'amnesiac? Allora, l'amnesiac deve scovare un cadavere e prendergli il ruolo, se no risulta che ha perso se durante tutta la partita non ha preso nessun ruolo. E quindi durante il game fisico può prendere i ruoli ai cadaveri, mentre il limitatore può prendere il ruolo solo durante le call e non ha modo di perdere di base, cioè non perde da solo l'acqua. Allora, l'amnesiac deve scovare il ruolo solo per la partita non ha preso nessuna. Allora, stavo facendo... Ma che cazzo? Non mi è potuto succedere. Mi fa molto ridere. Mi fa molto ridere. Per forza? Sì, sicuro. Perché è in caffetteria dall'alto. Io sono entrato in caffetteria e ho fatto una tasca in alto a sinistra e poi sono scesa giù e ho visto due corpi. Ho detto, ma che cazzo? Io vi dico solo che due persone sono erano innocente e sono morte da sole. Uno è morto avanti a me, ero uno sceriffo, mi ha sparato. Non dico, eh, chissà chi è stato. Ok, bella cazzata. Scusate, non ho capito, ma quindi è morto l'impostore? Cioè, cosa è successo? No, sono morto innocente e probabilmente è un impostore. Un impostore... Chi era quello che ti ha sparato? Non te lo dico. No, devi dirmelo. Non te lo dico? Devi dirmelo. Non te lo dico. Dimmelo. Va bene. Chi ti ha sparato? Otta, votami. È un momento veramente stressante questo per noi. Eh, chissà. Io ho ucciso Cocco, dico questa cosa. C'è l'idea di capelli in coming? Ok. Posso dire godo? Non ci ho capito. Posso dire godo? No, 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 no. Abbiamo fatto una strazione. Abbiamo fatto una strazione. Ma io non ho capito come sono morto. Se vuoi, io invece ti spiego che ti ho visto dai pallini che uccidevi. Palese comunque, palesissimo. Dopo che mi hai detto... Io ho ucciso Cocco, ho detto ok, è lui. No, raga, raga, io vi giuro su Dio. Ma io non ho capito come sono morto, scusate. C'ho ucciso io per sbaglio. Però, scusa, ma se io uccido da sceriffo, uccido l'innocente, l'innocente muore comunque. No, muore comunque. Eh, ma guarda come è morto Cocco. Ci siamo ancora l'impostore. Abbiamo fatto scambiabare. Ah, ok, perché io ti ho visto e ho detto questo è l'impostore. Ho cliccato. E poi però sono morto e sei morto anche tu. No, raga, che è tu. Però è figa, perché mi chiudi le porte davanti? Io ero il piedino, avevo visto che noia con i piedini rosa, ho detto no, vabbè, assolutamente l'imp ha ucciso se non morì via me. Io ho visto che noia uccidere da morto. È possibile? Come è possibile? Ma sì. È perché era il Morphlin. Anche io mi sono un attimo convivuto. Ma quindi come ci sono state tutte queste morte? Se tu non chiudi le porte di merda, Nova, ma state ferme. Ma c'era la bomba. No, no, non c'era la bomba. E che cazzo? E abbiamo ucciso una a una. Io andando le porte, nascondendo le cose. Eh, non ho capito, regà, vi devo dire. Non ho capito. Cioè, io quindi sono l'impostore? Sono pure il Morphling? E oltre tutto ciò? Sono pure il... Il coso? Quello che sceglie i voti? Cioè, quello che sceglie dove dare i voti? Ciao. Allora, a vedere le skin. Ma c'è un problema. In admin. Io ero i pallini. Ma raga, comunque per forza... No, non è uscito, è ancora lì. Raga, per forza uno dei due è morto a causa di... Non di un impostore, per forza. Cioè, che tipo è stato ucciso da uno sceriffo o qualcosa. Perché io sono l'altro impostore e non ho fatto nessuna kill. Quindi per forza è morto per un altro motivo. Wow, totta, veramente io. Ok, no, no. Totta, ti credo? Ti credo. Totta, che impostore sei allora? Eh, ma finiamo il game, basta. Vabbè. Beh, Roma, perché stai affianco al cadavere? No, fatto sta che... Io ero pallini... Avevo aperto la mappa e stavo andando verso shield. Non so dove è. Però su interfazio ero uscito da admin. Ed era, non mi ricordo chi era la persona. Io sono uscito da admin da poco. Io ero vicino alla navigation e stavo andando verso shield. Se il cadavere era vicino ad admin non ero semplicemente... Era vicino a ossigeno. Ascolta, per favore. Ossigeno. Allora sì, probabilmente ero là vicino e stavo semplicemente... No, ma quanto tempo fa sono uscito da admin nella tua immagine? Non lo so, perché io poi ho aperto pallini quando sei uscito. Ho tolto pallini ed ho visto il corpo cadere. Eh sì, sono appena entrato e ho visto le porte. Stavo per fare una cosa, ovvero ridere. La cacca? Però poi... La cacca. È stato riportato prima. Potrei chiedere di che colore è questa cacca? Per caso rosa? No. È una testa, si può spiare alla mente. Nova, io ho una domanda per te. Che altro vedi scritto col nome rosso? Nessuno. E te lo posso giurare anche se ho messo. Ce la sta giocando proprio bene, Nova. Che scambio. È molto facile, Nova, sei l'impostore. No, te lo posso giurare, non sono l'impostore. Ok, basta che dici no. Rage, sei l'impostore? No, è berro. Va bene. Ok, è berro, perfetto. Effettivamente era strano che avessi superato il primo coso senza morire. Sono io, sono io. No, non sono l'impostore. Perché tentenni? No, sono io, raga, sono io. Sei come Spawn, tu tentenni un po' troppo, eh? Tu Rage, invece, che non lo sei. Che provo a zaccarti. No, ripeti sta cosa qua dello Spawn. E che sei? Che sei? No, no, Spawn è una persona. È uno shield. È un personaggio. È un personaggio pubblico. Ma che cazzo? No, Rage, che cosa è successo? Nessuno ha votato. Rage è morto. No, ma è stato buttato fuori. Chiudi la stream, Nova, perché... Che dire, ragazzi. È stata Gucci Fide. È stata Gucci Fide, ragazzi. Ma cosa posso dire? Se non che è stata Gucci Fide. Cotto, Cotto come un canne! Cotto come un canne! Gli ho rubato un po' e l'ho vinto noi due impostori. Ah, perché te l'impostore hai aperto? Ma sei deficiente. No, te c'è un canne! Ma chi vi ha zaccato, vigilante? Ma come cazzo è fatto ad essere assassinato pure da assassino? Ti ho ucciso io, Berro. Io ero lo sceriffo. Ma cosa è successo? Lui ha fatto la kill. Io gli ho rubato il ruolo. E siccome eravamo ancora due impostori, c'erano l'ho... Ma io devo sapere chi mi ha votato vigilante. Perché io non ho mai dichiarato niente. Voglio sapere come l'ha capito. Per favore, grazie. Tu sei lo sceriffo, mi hai ucciso perché ti girava il cazzo di farlo. E c'era una limitatroia che mi ha preso il ruolo e ho detto che erano in maggioranza e hanno vinto. Non c'entra niente, Nova. Io ero il vigilante. Non ero lo scudatore. Ma io... Allora... Io voglio sapere chi ha indovinato il ruolo. Che è palese stream sniping. Scusa, io alla fine del game qua c'è... Correct guesses è chi ha indovinato. Nova. Nova è l'unico. Ok, Nova stream sniper. Ma non è... Ma non ho avuto niente. Ma non era neanche il killer, poi. Ma scusa, come è una persona che non era il killer? Nova non era il killer, era il juggernaut. Era il juggernaut. Eh, quindi come hai indovinato il mio ruolo, Nova? L'unico che ha fatto del... L'unico che è riuscito a ammazzare durante il meeting, c'è scritto qua. Eh, allora Nova, come hai indovinato il mio ruolo? Non ero il juggernaut, infatti. Eh, come hai indovinato il mio ruolo? Hai detto SHIELD! Eh, che c'entra? Con vigilante. Che ne so. Eh, appunto. SHIELD, Avengers, ho buttato a caso. Sì, sì, va bene Nova. Chiudi, è stream F1. Rajesh. Io comunque sono tre volte che sono... Ma scusate, ma poi ne cazzo fate a leggere che ha gassato? Non è piangi, cioè vigilante SHIELD non vuol dire un cazzo. Ma mi pare che stream snap, per Cristo santo, Rajesh. Eh, penso proprio di sì. Non litigate, per favore, datevi dei baci in bocca. No, guarda che c'è... Vergognate. Nova è l'amero, ma non c'è. Again? Ah, fucking again? I'm fucking sick of this shit. I need to say that I'm fucking very, 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 very fucking sick of this shit. Cosa fa che noia? Io vorrei sapere perché che noia è da inizio round che mi segue. Ma è il contrario. È da inizio round che mi sta a un pixel di distanza per cliccare su quel bel pulsantino kill. E' il contrario, dimmi un po' perché. Ma io sto scappando. Magari è solo perché sei affascinante, Totta. Io sto scappando da Totta. Totta mi insegue, io sto scappando. Ma se sto scappando io girando sul cazzo di cerchio. Ma come che farsa? Ma io sto scappando da te. Perché non hai premuto il pulsante, allora? La risolvo io adesso, però lo stream di che noia. Ok, bravo. Posso dire una cosa? Totta non sei molto credibile con quella pistola. Sass, cioè, con la pistola mi insegue e io scappo. E quindi cosa fai? Giudico i libri in base alla copertina? Sono le apparenze che ti fanno pensare male di me? E' questo il messaggio che vuoi passare ai prossimi? Sì. Va bene, dopo questo discorso ti voto, Totta. Povero, Totta. Schip, 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 schip. Ragazzi, se votate noia, mi fa. Vabbè, io ovviamente voto che noia. Perché votare me? Così, no, va per il me. No, va. Pazza psicopatica. Spettivo di seguirmi. Che ansia sto gioco, ragazzi. Che ansia sto gioco, ragazzi. Scusate, sono pazza. Sono pazza, sono fuori di testa. Allora. Andiamo in navigation. Vediamo che non c'è nessuno e riscendiamo. E riscendiamo nel chilling. Riscendiamo. Qualcuno ha fatto per T2? And I wanna cry, I wanna learn to love. Salve. Ah? Totta, perché hai riportato un cadavere? Non lo riportare. Ah no, è vero, non è Rigi il cadavere nero, mamma. No. C'è detto, what? What? Non ho capito, Dado. Era anche a me, ha detto, vuoi aspettare un po' di più. No, Dado, spiegati, prego. Allora, io non sono bravo a metà giocare, quindi mi devi dire perché cazzo hai detto sta cosa. Perché l'ho detto completamente a caso come metà delle cose che pico parla. Ah, ok, ci pensavo che fosse qualche ruolo strano che se non riporta i cadavere. No, no, no. Accumula. Il cadavere era tra navigation e shields all'altezza della vent, praticamente, e non ho visto nessuno, quindi è possibile che abbia ventato. Vedete che ci facevi ancora a destra, scusa. Io ho acceso le telecamere in questo, nell'esatto momento in cui Totta trova il cadavere. Totta, sei andata a destra all'inizio, hai fatto le tue cose e poi te ne sei andata e sei tornata a destra. Che ci fai? Io in realtà sono andata a destra solo per andare a controllare in navigation, poi sono tornata subito in storage, no, sono passata da shields communications, ho beccato pure Bertra se non sbaglio, sono andata in storage, quindi non sono stata tutto il tempo a destra. Noi ci siamo trovati sotto electrical. Scusa, dopo storage sono andata a sinistra che volevo andare in elettrica, solo che la porta era chiusa e quindi sono tornata indietro. È vero, c'era Bertra! Ma io in verità ti ho visto andare in su con che noi verso la caffetteria. Eh sì, dopo perché sono andata da storage verso elettrica e c'era Berro davanti alle porte chiuse di elettrica, sono tornata indietro, ho beccato che noi abbiamo ballato un piccolo tango nel corridore tra caffetteria e storage, poi siamo salite, io sono andata a destra che noi è andata a sinistra e poi ho trovato il cadavere tra navigation e shields. Io dico, allora Bertra, io ti voglio molto bene, però perché devi tipo cosare Totta a caso? Cioè io ero davanti ad elettrica che volevo entrare e siete arrivate tu e lei e quindi ci siamo visti e avete fatto la stessa... Ma io non c'ero, ma ti droghi Berro? Io non sono mai andato lì. Ma ero in elettrica, sì, ero davanti ad elettrica alla porta chiusa, c'era Totta. No, Bertra si è fermato a storage ancora prima di entrare in elettrica. Io mi sono fermato ad admin. Vabbè, eri tipo entrato da storage verso elettrica. Figa, non lo so, da elettrica eri davanti all'interno del corridoio. Ah, interessante, no, no, interessante, interessante. Ma che cazzo sto... Boh, vabbè, io t'ho visto, cazzo. Tu si, bacca! Perché Rajesh ha un voto, scusate? Perché qualcuno sentiva il colliardico. Sì. Ma che devo dire qua? Sto per caso diventando forte a questo gioco, ragazzi? Cioè, non ti dico forte e di forte. Non te so di questo. Assolutamente ci mancasse, sarebbe l'ultima delle mie richieste. Che was so pretty. Oh, ragazzi, io non è che posso sempre stare qui a fare le cose. Cioè. Se non mi fate finire sto cazzo di scan, ve lo giuro. Quanto stiamo andando lento? Non è morto nessuno. Chi è che prima aveva dato contro a Berro? Dicendo che era l'impostore. Berro è morto, Cocco. Berro? No, no. Ho detto, se c'era qualcun altro di morto. No. Perché tu, scusami, hai riportato il chiamato pulsante? Ho riportato, ho riportato. Dove è stato trovato il cadavere? È sotto la mia pistola. Berro era un impostore, comunque. Giusto per dire, Tota, se provi a difenderlo non è molto conveniente. Io ho solo chiesto chi era che prima aveva dato contro Berro, perché... Io perché aveva detto che mi aveva visto quando non mi aveva visto. Quindi effettivamente, Berro, allora è safe. In base a cosa, scusa? Perché Berro era l'impostore, l'ho sparato. Ah, vabbè, allora. Come l'hai capito che era Berro, scusa? Boh, era a destra, ho premuto spara e l'ho sparato. Eh, lo fa, Cocco. Sì, allora, lo so. È una scusa del cazzo, ma lo fa. Non è una scusa del cazzo, figare. Eravate tutti a sinistra, sono spenti le luci, stavo a spammare a chi, ragazzo. Scusate, avevo paura per la mia vita. Se volevo morire, morivo da solo. E niente. Quindi, se avete visto qualcosa, si schifo? Io voto Tota. Ci diamo un bacione. Ma io sono rimasto beatamente a farmi i cazzi miei, quindi nel cielo io voto Tota. Io voto Tota. Tip. Qualcuno l'ha fegata, eh? Qualcuno l'ha fegata qua. L'ha fegata perché sei il jester, complimenti. Complimenti, Tota, gg. Uno più uno con la pistola. Abbiamo piug service. Abbiamo isanto. Tota, meddie�, סi. ingly. L'ha fegata. Eh, mo ci metto un pochino 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 Madonna, perché sei troppo l'impostore Lotta si è suicidata su di me E perché mi dovrei fidare di te? Perché te lo devi sparare Ah beh, allora è vero Chi dice una buzia non è figlio di Maria Sono due le opzioni Io credo a quello che ha detto Bertra Bertra, come si chiama tua madre? Infatti io sto a sparare in bocca Perché per me, di base, la cosa a Bertra È che o è un gesterino o è un chillerino Ma Bertra ha fatto la play giusta Ma no, l'ha fatta Mi dispiace L'ha fatta come Sherlock Holmes Allora io posso solo dire ragazzi che Sono veramente soddisfatta Delle mie E io vorrei che voi per favore Vi accorgeste Vi accorgeste di questi miei miglioramenti Perché ci sto mettendo dell'impegno fisico Ok? E niente, vi voglio dire che Praticamente sto Mi vedete che sto non migliorando Ragazzi Ragazzi Cioè io ho visto Mezzo istante fa Ragazzi uscire assieme a Che Noia Quindi magari veramente Che Noia era la cosa a sto punto No, no, scusami Se l'hai visto vivo Eh, e poi vi siete tolti Cogliona Fermi, fermi, fermi E la luce sospente Ho l'informazione Perché ho la torcia brutta cogliona Fermi Con informazione Qualcuno Allora io sono andato a fare le luci E appena sono riacceso Sono arrivato due persone Quando sono andato in magazzino C'era il corpo in magazzino Quindi uno delle due persone Stavo facendo la benzina Ma era tutto spinto Io ti posso dire Un'altra cosa Ti spoilerò anche questa cosa Possono anche venire da sinistra No, no, spero Una cosa stra semplice Folia Folia Si schippa Siccome un impostore è morto Basta Ma noi ci fidiamo che un impostore sia morto? Io penso proprio di fidarmi Allora Io mi sento di dire Che Che Noia mi sussa leggermente Perché l'ho visto uscire con Rajesh Mezzo istante fa Beh, queste sono le mie informazioni Io non sono corretto Che faccio quattro volte il gesture E nessuno mi accusa L'unica cosa che mi viene La mia volta che sto innocente Mi prendo i voti di accusa L'unica cosa che mi viene da dire di Ken È che prima era in effetti Anche lei Dove è esploso ciurlo Eh, ma metti caso che è il gesture Schippe e basta Che si vede Senta davvero Ma Bertra Ma Bertra Vedi che tu dici le cazzate Cosa? Bertra Tu dici le stronzate Cosa? Cioè Tu ora Tu hai detto Hai passato tutti i round di prima A dire Sono io Ucciso Daghi Aspetta E ora hai detto Ferma Ferma Bella ragazza E ora hai detto Che Beh sì Effettivamente anche prima A round di prima Che Noia era vicino Quando è esploso a Dead Ma se l'hai uccisa te Ma se l'hai uccisa te Quattro anni Bertra Eh l'ho ucciso io Sì E allora in che modo Dovrebbe essere la cosa a favore Di Sussi Non era a favore Era semplicemente un dato di fatto Che non era rilevante Quindi tu Tu mi puzzi Tu sei un lupacchiotto O un finto lupacchiotto O un cattivo lupacchiotto Ha questa capacità di fare le colpe sbagliate del globo E crederci un botto Oh sì Oh sì Dillo Dillo ancora Per favore senza piangere Ma dove sei un lupacchiotto Sessuale ragazzi Cosa vuol dire lupacchiotto Guarda la file game Vedrai quante cazzate stai dicendo Probabilmente l'impostore Ragazzi Fateli accoppiare per favore Veramente Quindi Rajesh Era lo sceriffo Quindi Bertra no Quindi io avevo ragione Quindi io ora vado a cercare Bertra istantaneamente Subito Vado a cercare istantaneamente Bertra E lo ammazzo Ma subito proprio Dove sta quel coglione di Riccardo Bertrand Ma istantaneamente Dov'è? Dov'è Riccardo Bertrand? Subito lo devo ammazzare Dov'è? 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 Io lo ammazzo Dov'è Riccardo Bertrand? Qualcuno vuole fare qualcosa? Oh Dio santo Berro che calmo con la pistola Berro Allora fermi Sì scusa Totta Ha deciso di compiere L'estremo gesto del sudoku Sì Mi sa che era sceriffo E mi ha sparato in bocca Io vi giuro ragazzi Ero in elettrica Comunque Dado Fermi fermi Scusa ma non eri tu sceriffo Non eri tu sceriffo Dado Hai visto quello che ho visto io o no? Ma guarda Hai visto Il mondo di molto muscolo S'uscire da un avente volando? Ma Bertrand Non hai detto che eri tu sceriffo Che avevi ucciso Daddy? E noia Stai cercando per caso Di spostare L'attenzione dal fatto Che sei decollata fuori Da un avente E ci hai guardato Con gli occhi di un cervo Che vede un tir Ma cosa stai facendo? Proprio con due occhi Scusami tu prima dici di essere lo sceriffo E hai dici di aver ucciso Daddy Essendo lo sceriffo E adesso dici che Totta ti ha ucciso Che ero lo sceriffo Ma cosa stai dicendo? Ma non ha senso Che ci sono due sceriffi No? Ragazzi Vi dirò quello che ho visto Io nella mia visuale Grazie E quello che è successo Vi dirò che quello che ho visto Ve lo dirò Ve lo dirò Allora io faccio per scendere No? Poi Faccio per vedere le mie task Nel momento stesso in cui Faccio per vedere le mie task Qualcuno esplode Perché guardavo in basso a destra Ed appare il task report In giro E c'è Bertra Che balla sul cadavere di Dotta E ci sta anche noi Che gli fa gli applausi Tipo bravo bravo Complimenti No Io lo stavo facendo applausi Ero all'edita da quello Che avevo appena visto Sì sì Io stavo cercando di capire Chi dei due Volesse reportare Poventatissimo Poi nessuno dei due Voleva reportare Quindi per me sono tutti e due Dadon Dadon Ti faccio una call Se vuoi ascoltarmi Ha detto Si è spiegato da solo Non parlare un secondo Dadon Ti ha zittito Non parlare e cagati addosso Dadon Io ti voto intanto Il primo round ho fatto una kill Come ho fatto una kill? Boh Chissà perché ho deciso di non reportare subito Magari speravo di farne un'altra No Eh vabbè Ok che noia si è appena suicidata Quindi manca ancora qualcuno Mi faceva paura C'è un certo punto Io sono entrato in elenco Quindi mancherà ancora qualcuno Se il jester rimane in vita Non finisce la partita vero Ok Che cazzo è successo? Manca un impostore Chi è l'impostore che manca? No Dado perché? Chi ha votato Dado? Raga cos'è stia clownata? No il jester Parapapá Ma chi è il pagliaccio che l'ha votato? Chi è il pagliaccio? Chi è che l'ha votato? No va Sì No sei un cagliore Ma eri impostore io Sei veramente Ma chi l'ho ucciso Mattino? Ma non mi ha ucciso Mattino Ma con è possibile Ma c'è Juggerstop che ha bugato Ma perché c'è Juggerstop poi scusa? Dunque io ti ringrazio Dado per aver vinto Perché io ero l'amnesia Che non riuscivo a trovare un cadavere Non ti preoccupare Non ti preoccupare Io calcolo che i primi tre round li ho fatti dentro una botola Cioè proprio gameplay Io parlavo con la chat nel frattempo Il gioco ha sentito che io odio fare l'impostore E ho detto ok allora la prima persona che ucciderai È il veterano Sei esploso ma fortissimo Ma io ho cliccato kill Sono la prima persona che ho beccato Ovviamente era il veterano Ma a me andava bene così Nova l'avesse capito E avesse ucciso Bertra Lapine Comunque si ragazzi Se io non riesco a prendere il ruolo Quando sono il fra L'imitatore è perché quel ruolo era l'impostore Cattivo Cattivo o neutrale Io ancora devo capire come ho fatto a vincere la partita Però vabbè Sei bellissimo Sei bellissimo Cioè regà io non ce la faccio più Basta Basta Non posso continuare a dare del contenuto Basta Che significa sto merda di radar Che significa questo merda di radar Si ho trovato che da avere A destra A destra Raga sono un nuovo ruolo Non so mi pare ninja Ragazzi voglio dire che sono l'impostore Perché un altro ruolo a giocare a su non ce la faccio Raga Dai zitto Ragazzi Posso mandarla a monte e ne facciamo un'altra Perché? No No va bene ditemi voi Sennò non la mando a monte Ma dimmi perché No ma dimmi quale impostore sei Ditemi solo se devo mandarla a monte E ne possiamo fare un'altra per favore Ti piacciono le fumogene O ti piacciono le persone mute? Allora A prescindere io sarei d'accordo con te Ok allora Semplicemente perché Io sono stata veramente impostore Troppe volte in questo game E molte troppe volte lo sono stata da sola E ora mi avete di nuovo In qualche modo ucciso che noia Che era l'altro impostore E non c'ho cazzo di rifarmi un'altra partita da sola Mi hai ucciso daddy ma non so perché Ma come mi hai ucciso daddy come hai fatto? Non stavo facendo niente Sono così triste Tota stavo per spararti in gola Io sono il juggernauta Cosa fa il juggernauta? Non ho capito È un bug Non si sa Scusate raga però peggiorno non ce la facevo Io stavo a fare un'altra partita tutta da sola La mia tasca è tranquilla Sono così triste In realtà non è rilascio Non posso venire uccisa E mi uccidono Ma come non ero da sola? Eh no c'era detto che ero juggernaut Eh ma io non sono io non sono da cazzo Sia sto juggernaut È un bug E non si può togliere È un bug? Sì Posso chiedere? Biserebbe ricreare Biserebbe ricreare No dai famo l'ultima Dato uno o due Quindi il juggernauta non può vincere A posto Grazie per Vai votiamo daddy E stiamo a posto Cioè io Io la voto Grazie per il tip and six Che era Che è l'altro? Daddy Daddy Ok No io sono troppo arrabbiato Stavo per sparare in boccatotta Non so Sai questo come si chiama Bertra? Karma? No Schilish Pensavo che uccidersi su di me fosse schilish Scusami Ma io mica mi sono uccisa su di te Non so chi scusare? Ma io ti ho ammazzato Bertra No prima Nel game prima dico Ah vabbè Ammazza Guarda quanto devi scavare indietro Però hai ragione Perché la madonna ha dieci secondi Ben cinque minuti fa Scusa mia moglie Mi dispiace Ma io ormai sono entrata nel mood Che mi piace essere impostore Quindi sono diventata mega tossica Cioè non posso Nelle mie vene Capisci Non posso fare altrimenti Capisco Tra un po' ti trasformerai In un maschio bianco etero cheese Di colpo Sì 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 Prossima volta che voglia parlare Di questa citta Ma poco vuoi vestito? Anna ironica Quello che ho fatto io prima È appunto vera questa la citta Esatto Ah scusami No no tranquillo Non capisco la tua citta Non capisco la tua citta Ok nel chilling Sono un cazzo di ruolo inutile Regà Sono fottutamente inutile Ah che bello Ma vogliamo dire che stasera Ragazzi sono sempre stata Un ruolo Spicy Un ruolo interessante Ho sempre carriati game Scusate ragazzi Sono diventato un giocatore tossico Ho avuto ragione Ho avuto ragione Cioè me lo sono dettato solo Però posso dire che ho sempre avuto Jester E il cattivone E l'altro pisco Cioè che cazzo ragazzi Che cazzo voglio essere inutile Ogni tanto Cioè ora ok Dai Mi prendo bene Perché mi prendo bene Assolutamente Però che cazzo Allora però è vero che Abbiamo Che cosa è successo Che casino Madonna ragazzi Ma che noia crepa sempre Da impostore Da impostore Ma la vogliamo finire subito Ma sì tanto Cosa è successo Vabbè sono Berta e Rage Dovere Così Cazzo Grazie Arrivederci Perché ho tratto un clone di me stesso Non sono Berthe Rage E questo Non sono Berthe Rage Passi arancioni sotto il mio corpo Figa Sono l'investigatore E raffianco a Rage E si è trasformato Nel dubbio Io ho già preso Dove c'è zio Io vorrei fare Io che c'è il mio ruolo Però non posso Che fonti che l'ho visto Anche quando si è trasformato Che si è trasformato Non l'ho visto Che c'era un altro cocco L'ho visto I call it Ma di solito non ti dice tipo L'impostore è Darker E quindi dovrebbero essere Tutti e due lighter O tutti e due Darker Rispondete minciate Ho del pene di berro Che è una roba Rage ammazza Sono l'investigatore Sì in effetti Io comunque Ti direi di terdocchio cocco Che fa call Con i piedini Che non so Io sono lo sceriffo My bad Mi sono sbragato E ho cambiato il colore Dei miei piedi In arancione Perché mi piace Perché Hai pocciato i talloni Nel gange Esatto Però devono essere uguali Io che ne so Ma che cazzo ho preso io Io ho visto Un mio doppione Quei packs arancioni La cacca Te l'ho detto E ora me l'hai detto Però gli altri Invece che stanno a fa Mi ho votato Bertra Perché era Si è trasformato in me Perché hai votato Berro Cos'ha fatto Berro Non Berro Bertra Oh porca troia No Guarda Josh Dato voi Io ero Pallini Io ero Pallini Perché ti stai giustificando Ti ho chiesto chi stai votando No ma era nella piscina Delle palline Con i bambini Dato Io ho votato Bertra Secondo la La call di Cocco Rajesh Tanto hanno votato tutti Bertra Ho votato Bertra Dici Vabbè anche se il mio compagno Di Di merende È assassino Vabbè che fai Non lo voti E dai Ma non credo Io ho visto i loro passi Andare sempre insieme Quindi I loro passi Sempre insieme Va bene I loro passi Sempre insieme E sopra E l'altro Se non mi uccidete Non so che cazzo Trovarci E invece Grazie Quanto è stato veloce Questa cosa Vabbè Dai Ridge Però Uccidete prima Così evito di ricorrere No scusami un attimo Se io vedo Cocco Io sono passato Semplicemente a piedi E basta Io ho visto il tuo clone E basta Cioè non puoi dire Cazzate a casa Io ho visto i piedi Dell'arancione Che se ne frega Il tuo Sono triste raga Ve lo dico Grigio Io per la prima volta In vita mia Sono riuscito a trasformare Il ruolo del veterano In un ruolo da sceriffo Stato fichissimo Io invece Per la prima volta In vita mia Ho fatto una valida Partita da impostore Stasera Io invece Le uniche due volte Che sono stato impostore Sono durato 12 secondi Come ha letto Dio Bano Beh non è male 12 secondi Tipo tre rapporti sessuali Medi Nel senso Lo trovo giusto Sì sì Molto noioso È un dodicesimo Della mia media Beh Wow Posso fare il calcolo Eh anche io so fare il calcolo Scusatemi Ma infatti Anche lei non lo sa fare Ma Sparato a caso No no Sparato a caso Solo per confondere Tutti quanti Ci ha confuso abbastanza Ora che osaltro Ci vuoi dire Che non ci sono solo Che ci sono più di due gender Che non ci sono gatti in America Non mi prometterei mai Allora Sai come è di solito Queste lobby ci confondono Per poi instillarci Queste informazioni Ma cos'hai mangiato Stasera pane vocabolario Dopo questa notizia bomba Ragazzi me ne vado Mi revo proprio dal cazzo Ciao Dato Condivido la scelta Ciao amici Ciao a tutti Ma Bertra cosa fai? Vuoi andare via dal tuo Discord? Eh? Bertra vuoi andare via dal tuo Discord? Cosa fai? Ciao 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 sburro Ciao Ciao sburro Quello là Ciao Quello là Ah È stata una partita Io sono felice Perché la chat Mi ha fatto i complimenti Che bello Che mi hanno detto Che sono migliorata E sto felice E sto felice Ora non ho più la tachicardia Quando leggo Impostor Che è già un grande passo avanti Forse la psicologa oggi Mi ha aiutato Le ho detto di questa cosa Non è vero Non le ho detto Che ho il terrore Di essere impostore su Among Us Come no? No E allora perché cazzo ci vai? Le ho pure detto boost E mi ha guardata E mi fa Che significa? E io Ho disperatamente sfogliato Tutte le pagine del vocabolario Del mio cervello Per trovare l'equivalente Di boost in italiano Spinta Ho usato quello Alla fine Sì esatto Confirma E basta questo ragazzi Io vi ringrazio Per essere Come al solito Delle persone bellissime Noi ci vediamo domani Con Pico Park Assieme a due ospiti Non d'onore Ma D'onore Ovvero Kodomo Yuki Che in realtà non è più Yuki Quindi che cazzo dico Kodosbromo E Kubolili Ragazzi Domani Dalle 20 Alle 22 Poi 22 23 Si fa quel gustosissimo GTRP Ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per essere stati con noi oggi Ringraziamo Berto E come al solito Un compenso fondamentale Degli amichetti Noi ci vediamo domani sera Dalle 20 alle 23